latteo e appannato dietro strati di nuvole ridotto a un povero chiarore era il sole invernale sull'augusta città per le strade ornate di frontoni vento e umido e di quando in quando una grandina è soffice non ghiaccio non neve la scuola era finita nel cancello per il cortile selciato affluivano le schiere dei liberati dividendosi e sfuggendo a destra e a sinistra gli scolari più grandi tenevano il fascio dei libri alto poggiato con dignità alla spalla sinistra mentre con il braccio destro arrancavano controvento verso il pranzo i più piccoli si erano messi allegramente al trotto così che tutto attorno schizzava fango gelato e le carabattole della scienza sbatacchiavano nelle cartelle di pelle di foca ogni tanto però tutti con occhi timorosi si strappavano giù il berretto davanti al cappello di votan o alla barba di giove o alla barba di giove di un professore dall'insedere pacato insomma vuoi venire Hans? disse Tonio Krueger che aveva aspettato a lungo sulla careggiata dell'arsine sorridendo si avvicinò all'amico che chiacchierando con altri compagni usciva dal portone e stava per andarsene con loro ma perché? domandò guardando Tonio ah sì è vero beh allora andiamo pure Tonio ammutò lì e i suoi occhi si turbarono l'aveva dimenticato Hans? gli veniva in mente solo ora che oggi e mezzogiorno volevano andarsene un po' a passeggiare insieme e pensare che lui stesso da quando si era andati appuntamento non aveva fatto che rallegrarsene vi saluto disse Hans Hansen ai compagni allora me ne vado un po' con Krueger e i due voltarono verso sinistra mentre gli altri se ne andavano pian piano a destra Hans e Tonio avevano tempo ad andare a passeggio dopo scuola perché entrambi appartenevano a famiglie in cui si pranzava alle quattro i loro padri, grandi commercianti, ricoprivano cariche pubbliche ed erano potenti in città i Hansen possedevano già da qualche generazione i vasti depositi di legname giù al fiume dove poderose seghe meccaniche tagliavano sbuffando e sibilando i tronchi Tonio era figlio del consule Krueger e i cui sacchi di grano con il grosso timbro nero della ditta si vedevano ogni giorno trasportati a carri per le strade e la vecchia grande casa dei suoi antenati era la più signorile di tutta la città i due amici dovevano costantemente togliersi il berretto a causa dei molti conoscenti anzi i due quattordicenni da certuni venivano persino salutati prima entrambi avevano la cartella appesa alle spalle ed entrambi erano vestiti e coperti bene Hans con un giaccone corto alla marinara su cui alle spalle e sulla schiena stava posato il largo colletto blu del vestito da marinaio e Tonio con un cappotto grigio a cintura Hans portava un berretto da marinaio danese con nastri corti sotto il quale spuntava un ciuffo di capelli biondo rafia era straordinariamente carino e ben fatto largo di spalle e snello ai fianchi con occhi blu acciaio dallo sguardo penetrante e aperto invece sotto il tondo berretto di pelo di Tonio da un viso bruno con lineamenti marcati e meridionali facevano capolino due occhi scuri e appena ombrezzati con palpebre troppo pesanti trassognati e un po' timidi la bocca e il mento di una non comune bellezza camminava in modo trasandato e regolare mentre le gambe di Hans date e in calze nere avanzavano elastiche e ritmiche Tonio non parlava era addolorato i sopraccigli un po' obliqui, aggrottati e labbra arrotondate come per fischiare guardava lontano con la testa inclinata a lato portamento d'espressione questi che gli erano propri improvvisamente Hans infilò il suo brazzo sotto quello di Tonio guardando l'amico di profilo perché capiva benissimo di che si trattasse e benché Tonio continuasse a tacere lui si sentì invece di colpo rappacificato non è che questo lo avessi dimenticato Tonio disse Hans guardando davanti a sé giù sul marzapiede ma pensavo solo che oggi non se ne potesse far niente perché è così umido e ventoso però a me questo non importa e trovo grandioso che tu ciò nonostante mi abbia aspettato io credevo che tu fossi andato a casa e mi si arrabbiavo tutto Tonio a queste parole fu preso da una commozione saltellante ed esultante beh allora andiamo per gli alzini disse con voce agitata per il Mühlenwald e per l'Ostenwald e così ti accompagno a casa Hans davvero non fa proprio nulla che poi io me ne torni a casa da solo la prossima volta tu accompagni me in fondo non ci credeva molto a quanto Hans aveva detto e lo sentiva benissimo che per lui quella passeggiata a due valeva solo la metà di quanto invece era per sé stesso però vedeva che Hans si stava pentendo della sua smemorataggine dannosi anche da fare per riappacificarsi e lui era ben lontano dal voler protrarre quella riconciliazione il fatto era che Tonio amava Hans Hansen e ne aveva sofferte molte per lui chi più ama è il soccombente e deve soffrire questa lezione semplice ma dura la sua anima quattordicenne l'aveva già ricevuta dalla vita e vi era formato così che se ne vedeva bene di tali esperienze e se le annotava quasi internamente provandoci per così dire soddisfazione senza si intende uniformarvi la propria persona e trarne vantaggi pratici lui era anche al punto di stimare simili insegnamenti più importanti e più attraenti delle nozioni che gli venivano imposte a scuola da dedicarsi persino il più delle volte durante le lezioni nelle classi in stile gotico a percepire quei concetti fino in fondo e a maturarli radicalmente e quest'occupazione lo appagava in modo del tutto simile a quello provato quando con il violino perché suonava il violino se ne girava per camera sua tinnando con note così dolci come gli riusciva di cavarle nel gorgoglio di una fontana il cui getto s'alzava in un balletto giù nel giardino sotto i rami del vecchio noce la fontana il vecchio noce il violino e in lontananza il mare il baltico di cui nelle vacanze poteva furtivo ascoltare i sogni d'estate queste erano le cose che amava con cui quasi si circondava e tra cui svolgeva la sua vita interiore cose i cui nomi si possono usare con ottimo effetto in poesia e in verità risuonavano sempre nei versi che Tonio Kröger talvolta componeva che lui possedesse un quaderno con versi di propria composizione era diventato noto per colpa sua e gli inmoceva tanto presso i compagni quanto presso gli insegnanti al figlio del console Kröger pareva da una parte che fosse stupido e volgare scandalizzarsene e disprezzava perciò compagni insegnanti le cui cattive maniere per giunta lo angustiavano mentre ne percepiva con energia strana le debolezze d'altra parte lui stesso giudicava imprudente e in verità sconveniente scrivere versi e doveva in certo qual modo dar ragione a tutti coloro che la consideravano un'occupazione singolare tutto questo non bastava farlo desistere dato che a casa perdeva il tempo inutilmente a scuola era di intelligenza tarda e distratta e dagli insegnanti non era tenuto in gran considerazione prendeva sempre i voti peggiori e suo padre un signore alto accuratamente vestito con gli occhi azzurri pensierosi il quale portava sempre all'occhiello un fiore di campo se ne mostrava sdegnato e afflitto invece la madre di Tonio la sua bella mamma dai capelli neri di nome Consuelo è tanto diversa dalle altre signore della città perché il padre era andato a prendersela un giorno in un paese basso basso nella carta geografica per sua madre le pagelle erano del tutto indifferenti Tonio amava la sua mamma bruna e focosa che suonava a meraviglia pianoforte e mandolino ed era felice che non si afflizzesse per la sua dubbia posizione tra gli uomini altra parte sentiva molto più dignitoso e rispettabile lo sdegno del padre con cui nonostante i rimproveri subiti era completamente d'accordo mentre trovava un po' trascurata l'indifferenza serena della madre talvolta pensava pressa poco così è già abbastanza che io sia come sono e che non voglia e non possa cambiarmi negligente caparbio e con la testa cose cui nessun altro pensa è giusto che perlomeno mi si sgridi e mi si punisca e che non ci si passi sopra con baci e musica noi non siamo mica zingari nel carrozzone verde pensi gente per bene la famiglia del console Kruger dei Kruger non di rado pensava anche perché sono così stravagante e in conflitto con tutti in dissidio con gli insegnanti ed estraneo tra gli altri giovani guardati un po' i buoni scolari e quelli di mediocrità solida non trovano buffo l'insegnante non scrivono versi e pensano solo cose che appunto si pensano e si possono manifestare apertamente come devono sentirsi a modo e d'accordo con tutto e con tutti deve essere bello ma che ho io e come andrà a finire tutto questo tale maniera di considerare sé e i suoi rapporti con la vita aveva una grande importanza nell'amore di Tonio Kruger per Hans Hansen lo amava in primo luogo perché era bello poi perché in tutto appariva il contrario e l'opposto di quel che era lui Hans Hansen era uno scolaro eccellente e inoltre un giovane vivace che cavalcava faceva ginnastica nuotava come un campione e godeva della simpatia generale gli insegnanti lo vedevano di buon occhio quasi con affetto lo chiamavano per nome e lo favorivano in tutti i modi i compagni miravano le sue grazie e per la strada signori e signore lo fermavano e prendendolo per il ciuffo di capelli biondo rafia che spuntava da sotto il berretto danese alla marinaia gli dicevano buongiorno a te Hans Hansen e al tuo grazioso ciuffo hai ancora il primo della classe saluta papà e mamma ragazzo mio così era Hans Hansen e Tonio Krueger da quando lo conosceva portava struggimento scorgendolo uno struggimento invidioso radicato in petto e ardente poter avere occhi tanto azzurri pensava e fare una vita tanto ordinata e di felice comunione con tutti come te è sempre occupato in maniera onorata e in generale rispettata terminati i compiti vai a scuola di equitazione o lavori con la sega da traforo e persino nelle vacanze al mare sei assorbito dalla voga dalla vela e dal nuoto mentre io ozioso e smarrito me ne sto disteso sulla sabbia a fissare le espressioni misteriosamente cangianti che guizzano sulla faccia del mare ecco perché i tuoi occhi sono tanto limpidi essere come te non ci provò a divenire come Hans Hansen e forse tale desiderio non aveva mai neppure seriamente covato ma agognava d'essere amato da lui così com'era cercando di ottenere l'affetto a modo suo un modo tardo e intimo pieno d'abnegazione sofferente e malinconico ma di una malinconia che può rodere più profonda e struggente di qualsiasi slancio repentino che si sarebbe potuti aspettare dal suo sembiante esotico ma non desiderò del tutto in vano in quanto Hans il quale del resto stimava in lui una certa superiorità una facilità di parole che rendeva Tonio capace di esprimere cose difficili percepì quel sentimento vivido tanto forte e delicato se ne dimostrò grato procurandogli con la sua condiscendenza un po' di felicità ma pure qualche pena per gelosia per delusione per fatica sprecata a stabilire una comunanza spirituale perché la cosa strana era che Tonio pur invidiando Hans Hansen per la sua maniera di vivere si adoperava continuamente da tirarlo verso la propria riuscendovi al massimo per istanti eppure in questo caso solo apparentemente ho letto da poco qualcosa di stupendo di grandioso disse lui camminando mangiavano da un cartoccio delle caramelle di frutta comprate per dieci fennig dal bottegaio Iversen nella Mühlenstrasse lo devi leggere Hans si tratta del Don Carlos di Schiller te lo presto se vuoi ma no disse Hans Hansen lascia correre Tonio non è roba per me io sai continuo a leggere i miei libri di cavalli delle gran belle illustrazioni ci sono dentro te lo dico io se vieni da me una volta te le mostro sono istantanee e si vedono i cavalli al trotto al galoppo e al salto in tutte le posizioni che nella realtà non si riescono a vedere perché ogni cosa si svolge troppo in fretta in tutte le posizioni domanda Tonio Cortese è davvero una bella cosa ma per quanto riguarda Don Carlos è superiore ad ogni immaginazione ci sono dei punti dentro dovresti vederli che sono tanto belli da provare una scossa direi quasi uno schianto uno schianto domandò Hans Hansen e come mai c'è per esempio il punto in cui il re ha pianto perché è stato ingannato dal marchese ma il marchese lo ha ingannato solo per amore del principe capisci per il quale si sacrifica a questo punto arriva dalla sala del consiglio in anticamera la notizia che il re ha pianto ha pianto il re ha pianto tutti i cortigiani sono così gravemente perplessi da sentirse ne penetrare fino al midollo perché si tratta ad un re inflessibilissimo e severo ma lo si capisce bene perché abbia pianto e a me a dire la verità fa più pena lui che il principe e il marchese messi insieme è sempre così solo e senza affetti e quando finalmente crede di aver trovato un uomo leale quello lo tradisce Hans Hansen guardò il profilo di Tonio e qualcosa in quel viso dovette interessarlo all'argomento perché ad un tratto infilò di nuovo il suo braccio sotto quello di Tonio domandando in che modo lo tradisce Tonio Tonio cominciò ad agitarsi vedi cominciò la faccenda è che tutte le lettere per il bramante e la fiandra sta venendo Erwin Immertal disse Hans Tonio mutò lì che la terra se l'ingotta pensò quel Immertal ma perché deve disturbarci almeno non venisse con noi e non parlasse per tutta la strada della scuola d'equitazione in quanto anche Erwin Immertal andava a scuola d'equitazione era il figlio del direttore della banca e abitava subito fuori di porta con le gambe curve e gli occhi a mandorla da senza cartella venne loro incontro per il viale Giorno Immertal disse Hans sto passezzando un po' con Kröger Devo andare in città disse Immertal a sbrigare qualcosa ma vengo un pezzetto con voi Sono caramelle di frutta quelle che avete? Sì grazie un paio me le mangio Hans domani abbiamo di nuovo lezione intendendo lezione d'equitazione Grandioso disse Hans ora ricevo anche in regalo le ghette di pelle lo sai perché l'altro giorno ho preso dieci nel compito e tu Kröger non impari a cavalcare domandò Immertal mentre i suoi occhi si riducevano a un paio di fessure lustre no rispose Tonio con voce molto incerta dovresti chiedere a tuo padre osservò Hans Hansen di far prendere delle lezioni anche a te Kröger sì disse Tonio brusco e nel tempo stesso indifferente si sentì serrare la gola un attimo perché Hans lo aveva chiamato per cognome e Hans fece mostra di averlo intuito perché subito spiegò ti chiamo Kröger in quanto il tuo nome è così matto scusami sai ma Tonio non lo posso soffrire non è neppure un nome questo nel resto tu non ne hai colpa nemmeno per sogno no ti chiami così tu perché ha un suono straniero ed è qualcosa di particolare disse Immertal fingendo di voler parlare a fin di bene la bocca di Tonio ebbe un moto convulso si dominò e disse è vero è un nome sciocco io preferirai chiamarmi che so Heinrich o Wilhelm potete credermi ma deriva dal fatto che un fratello di mia madre con il cui nome sono stato battezzato si chiama Antonio perché mia madre è di laggiù poi tacque lasciando che gli altri due parlassero di cavalli e finimenti Hans aveva preso Immertal sottobrazzo e discorreva con un interesse vivo che non sarebbe mai stato possibile destargli per Don Carlos di quando in quando Tonio si sentiva frizzare nel naso lo stimolo al pianto e faceva pure fatica a trattenere il mento che tendeva continuamente a tremare Hans non poteva soffrire il suo nome e che ci poteva fare lui stesso si chiamava Hans e Immertal si chiamava Erwin nomi è vero generalmente ammessi e che non facevano specie a nessuno ma Tonio aveva un che di straniero e di particolare proprio così e lui tutto aveva un che di particolare lo volesse o no ed era solo ed escluso dalle cose normali e comuni benché non fosse uno zingaro nel carrozzone verde ma il figlio del console Kröger della famiglia dei Kröger ma perché Hans lo chiamava Tonio finché erano soli se poi venendo a un terzo cominciava a vergognarsene a volte se lo sentiva vicino e quasi conquistato in che modo lo tradì Tonio gli aveva domandato prendendolo sotto braccio poi però quando era arrivato Immertal aveva attirato un sospiro di sollievo plantandolo in asso rinfacciandogli senza necessità il suo nome come faceva male dover intuire tutte queste cose Hans Hansen in fondo gliene voleva un po' di bene quando erano soli lo sapeva ma non appena era presente un terzo ecco che si vergognava di lui sacrificandolo e lui era di nuovo solo pensò a re Filippo il re ha pianto caspita di Servin Immertal adesso devo andare sul serio in città vi saluto e grazie per le caramelle dopodiché saltò su una panchina sul lato della strada mi corse sopra con le sue gambe storte allontanandosi di trotto quegli Immertal mi piace disse Hans enfatico avevo un modo viziato e persuaso di rivelare simpatie e antipatie di distribuirle quasi benignamente poi continuò a parlare della lezione d'equitazione perché tanto era avviato ormai la casa degli Hansen non era più molto lontana il percorso lungo gli argini non richiedeva molto tempo tenendosi i berretti piegavano la testa in avanti contro il vento forte e umido che crepitava e gemeva tra i remi nudi degli alberi e Hans Hansen continuava a parlare mentre Tonio solo di tanto in tanto lasciava cadere artificiosamente un oh e un sì sì senza rallegrarsi che Hans nel fervore del discorso lo avesse ripreso sotto braccio perché l'avvicinamento era solo specioso senza importanza poi lasciarono gli argini non lontano dalla stazione guardarono un treno passare sbuffando con sgraziata sollecitudine per passatempo ne contarono i vagoni e salutarono l'uomo che imbaccuccato nella pelliccia se ne stava seduto alto alto nell'ultimo nella lindenplatz davanti alla villa del grossista Hansen si fermarono e Hans mostrò per filo e per segno quanto fosse divertente mettersi sulla parte inferiore del cancello e lasciarsi dondolare sui cardini così da sentire un forte stridio poi però prese gommiato devo proprio rientrare adesso cominciò addio Tonio la prossima volta ti accompagno io a casa sta pur certo addio Hans disse Tonio è stata bella la passeggiata le loro mani unite in una stretta erano umide e rugginose a causa del cancello quando però Hans guardò Tonio negli occhi nel suo grazioso viso sorse una specie di riflessione contrita nel resto quanto prima reggerò don Carlos disse in fretta la faccenda del re nella sala del consiglio deve essere grandiosa poi la cartella sotto il braccio attraversò di corsa il giardino prima di sparire in casa si girò ancora una volta per fare un cenno col capo e Tonio Krueger se ne andò tutto trasfigurato e svelto il vento lo spingeva alle spalle ma non solo per questo procedeva tanto veloce Hans leggerà don Carlos e poi avranno in comune qualcosa di cui né Inmertal né altri potranno discorrere come si capivano bene chissà forse potrà convincerlo anche a scrivere versi no no questo non lo voleva Hans non doveva diventare come Tonio bensì restare così come era limpido e forte così come tutti lo amavano e Tonio più di chiunque altro ma leggere don Carlos non gli avrebbe fatto male e Tonio passando per la vecchia porta puntellata camminò lungo il porto e per la strada tutta frontoni ripida ventosa e umida salì alla casa dei suoi genitori il suo cuore allora viveva struggimento vi era dentro e invidia malinconica e un pochino di disprezzo e una grande beatitudine a casta la bionda Inge Ingeborg Holm la figlia del dottor Holm il quale abitava là dove alta ospitale multiforme si levava la fontana gotica fu lei che Tonio Kröger a sedici anni amò come accadde l'aveva vista migliaia di volte una sera però la vide in una luce singolare la vide mentre conversava con un'amica e in una certa maniera spavalda a gettare di lato ridendo la testa portare in una certa maniera la mano alla nuca una mano da ragazzina non particolarmente affusolata non particolarmente graziosa così che il velo bianco della manica le scivolò giù dal gomito la sentì pronunciare in una certa maniera una parola una parola insignificante con una voce dal suono caldo e il suo cuore fu preso da un rapimento molto più forte di quello che aveva provato quando allora era un ragazzino stupido contemplava Hans Hansen quella sera portò con sé l'immagine di lei una grossa treccia bionda le occhi azzurri ridenti e dal taglio obliquo la tenue trazza lentigginosa sul naso non riuscendo ad addormentarsi perché sentiva il suono della sua voce tentò pian piano di imitare l'accento con cui lei aveva pronunciato la parola indifferente e ne era brividi l'esperienza gli insegnava che quello era amore benché però lo sapesse che l'amore gli avrebbe portato affanni tormenti e umiliazioni che inoltre avrebbe distrutto la pace e riempito il cuore di armonie senza che si trovi la calma di dar forma precisa alle idee e forzarne con serenità qualcosa di compiuto tuttavia lo accolse con gioia abbandonandovi si intero e curandolo con tutte le forze dell'anima sua perché sapeva che lo avrebbe reso ricco e vivente e lui agoniava ad essere ricco e vivente piuttosto che forgiare con serenità qualcosa di compiuto il fatto che Tonio Kreger cioè si innamorasse dell'allegra Ingeholm avvenne nel salotto appositamente sgombrato della moglie del console Hustid cui quella sera toccava di ospitare la lezione di ballo era un corso privato vi partecipavano solo membri delle principali famiglie per il quale ci si radunava a turno nelle case dei genitori per prendere lezioni di ballo e di comportamento a questo scopo veniva ogni mattina da Hamburgo il maestro di ballo Knack si chiamava François Knack e che uomo era anche je l'honore de me vous rappresenté diceva mon nom est Knack e questo non si dice mentre ci si inchina ma dopo aver riassunto la posizione dritta smorzato chiaro però non si ha tutti i giorni l'occasione di doversi presentare in francese ma sapendolo fare in modo corretto e irreprensibile in questa lingua allora in tedesco non si potrà più sbagliare come si attagliava a pennello la finanziera nero serico ai suoi pingui fianchi i calzoni gli cadevano con morbide pieghe sulle scarpe di coppale ornate da larghi fiocchi di raso e gli occhi scuri guardavano intorno uggiosamente felici della propria bellezza tutti si sentivano schiacciati dalla sua esuberanza di perizia e di garbo incedeva nessuno sapeva farlo come lui elastico ondulato cullante regale verso la padrona di casa si inchinava aspettando che gli venisse porta la mano ottenutela ringraziava sottovoce retrocedeva molleggiando si girava sul piede sinistro facendo scattare il destro con la punta abbassata a lato dal pavimento e se ne andava maestoso le anche tremolanti si doveva retrocedere verso la porta e inchinarsi lasciando un ricevimento non si doveva tracinare la sedia afferrandola per una gamba o strusciandola sul pavimento bensì prenderla leggermente per la spalliera e posarla a terra senza rumore non era permesso starsene con le mani incrociate sulla pancia e spingere la lingua agli angoli della bocca qualora però qualcuno si comportasse così il signor Knack aveva un modo di imitare il maleducato a fargli conservare per tutta la vita un disgusto verso quel gesto questa era la lezione di comportamento la danza del signor Knack la padroneggiava forse in modo più perfetto nel salotto sgombrato erano accese le fiamme agaste e le lumiere e sul cammino le candele il pavimento era cosparso di talco e gli allievi stavano silenziosi a semicerchio di là delle portiere però nella stanza adiacente madri e zie sedute su sedie felpate osservavano con l'occhialetto il signor Knack chinato in avanti sollevare con due dita di ciascuna mano l'orlo della finanziera ed eseguire molleggiandosi sulle gambe le singole figure della mazzurca e invece lui voleva sbalordire del tutto il suo pubblico allora senza motivo pressante balzava di colpo da terra pirolettava le gambe avvolgendole una nell'altra con rapidità sconvolta gorghezzando quasi con esse per poi con un tonfo attenuato che però faceva tremare ogni cosa tornarsene su questa terra che scemmiotto inconcepibile pensava Antonio Krueger in cuor suo eppure vedeva bene Inge Holm l'allegra Inge seguire spesso con un sorriso estatico le evoluzioni del signor Knack e non solo per tal motivo tutta quella padronanza fisica gli procurava in fondo qualcosa simile all'ammirazione c'erano calmi e imperturbabili gli occhi del signor Knack non penetravano le cose fino al punto in cui diventano complicate e tristi non conoscevano altro che da essere scuri e belli ecco perché il suo portamento era così superbo stupidi si doveva essere certo per sapere incedere come lui allora si poteva avere l'amore perché attraenti lo comprendeva così bene lui che Inge la bionda la dolce Inge guardasse il signor Knack in quel modo ma proprio nessuna ragazza gli avrebbe mai rivolto uno sguardo simile oh sì era accaduto alla figlia dell'avvocato Fermeren Magdalena dalla bocca delicata e dagli occhi grandi scuri lustri colmi di serietà ed infatuazione ballando cadeva spesso per terra ma al ballo delle dame andava ad invitarlo sapeva che lui scriveva poesie due volte l'aveva pregato di mostrargliele e sovente lo guardava da lontano con il capo inclinato ma a che gli serviva lui lui amava Inge Holm la bionda allegra Inge che certo lo disprezzava perché scriveva cose poetiche ma guardava guardava quegli occhi azzurri dal taglio sottile pieni di felicità e di scherno e si sentiva radicare in petto e ardere uno struggimento invidioso un dolore acuto e pungente ad essere da lei respinto a lei eternamente estraneo prima coppia a Navan disse il signor Knack e non ci sono parole per descrivere l'impeccabile pronuncia del suono nasale gli stava esercitando con la quadriglia e Tonio Krueger profondamente sbigottito venne a trovarsi nello stesso quadrato di Inge Holm faceva il possibile per evitarla eppure andava sempre a finirle vicino proibiva i suoi occhi di avvicinarla eppure il suo sguardo incontrava costante quello di lei ed eccola per mano al fulbo Ferdinand Mattiasen avvicinarsi scivolando e correndo gettare la trezza all'indietro e porsi dopo aver respirato profondamente davanti a lui il signor Hanselman il pianista posò le dita ossute sulla tastiera il signor Knack comandò la quadriglia cominciava dinanzi a lui si muoveva incedendo e girando su e giù avanti e indietro e di tanto in tanto un profumo emanato dai capelli o dalla stoffa bianca e delicata dell'abito di lei lo sfiorava mentre lo sguardo gli soffuscava sempre più ti amo cara dolce Ing diceva nell'intimo mettendo in quelle parole tutto il suo dolore nel sentirla così allegra e attenta al ballo non curandosi di lui mi venne in mente una bellissima poesia di Storm vorrei dormire ma tu vuoi danzare e fu tormentato da quell'assurdità umiliante voler danzare mentre si amava prima coppia è una van disse il signor knack cominciando un altro giro compliment mouliné de dame tour de main e nessuno potrebbe descriverla in che maniera graziosa tranguggiava la e muta del dè seconda coppia è una van toccava a Tonio Kreger e alla sua dama complement e Tonio Kreger si inchinò mouliné de dame e Tonio Kreger con la testa bassa e rabbugliato in volto posò la sua mano sulle mani delle quattro dame su quella di Ingeholm danzando mouliné tutti intorno si levarono risate e sogghigni il signor knack si produsse in una pantomima espermente un orrore stilizzato povero me esclamò fermi fermi Kreger è andato a finire tra le dame e non rie signorina Kreger indietro fidonche hanno capito ormai tutti lei solo no presto via vada indietro e tra fuori un fazzoletto di seta gialla scazzando con esso Tonio Kreger indietro dal suo posto ridevano tutti i giovani le ragazze e il signore di là della portiera perché il signor knack aveva fatto dell'incidente una buffonata e la gente ci si divertiva come a teatro soltanto il signor Hanselman avendoci fatto il callo alle reazioni del signor knack aspettava con un'arida espressione professionale il segnale di riattaccare e la quadriglia proseguì finché dopo ci fu la pausa alla porta entrò facendo tintinnare un vassoio pieno di bicchieri con gelatina d'uova la cameriera seguita nella scia dalla cuoca con un carico di plum cake ma Tonio Kreger se la svignò andandose nel furtivo nel corridoio e mettendosi con le mani dietro la schiena davanti ad una finestra dalle persiane abbassate senza considerare che attraverso quelle persiane non avrebbe potuto vedere un bel niente e che quindi era ridicolo starci davanti dandoci l'aria di uno che guarda fuori ma lui guardava in se stesso dove c'era tanta angoscia e tanta malinconia perché? perché mai era lì? perché non era nella sua stanzetta alla finestra a leggere in merse di storm guardando qualche volta fuori nella sera del giardino dove il vecchio noce scricchiolava affaticato quello sarebbe stato il suo posto e che ballassero pure gli altri che prestassero pure tutta l'attenzione no no eppure il suo posto era ancora lì dove si sapeva nelle vicinanze di Inge anche se standosene solitario lontano cercava di distinguere nel bisbiglio nel tintinnare e nelle risate là dentro la voce di lei in cui era un suono di vita appassionata i tuoi occhi lunghi azzurri e ridenti o tu bionda Inge tanto belli e tanto sereni come te si può essere purché non si legga in merse e non si tenti di fare altrettanto è questa la cosa triste ma doveva venire doveva notare che lui era lontano doveva sentire in quale stato era doveva seguirlo furtivamente anche se per compassione soltanto mettergli una mano sulla spalla e dirgli vieni dentro da noi sii felice ti amo e lui tendeva l'orecchio dietro di sé aspettando con l'ansia assurda che lei potesse venire ma non venne affatto cose simili non accadono sulla terra non lo aveva forse deliso anche lei come tutti gli altri è vero l'aveva fatto anche se avrebbe preferito negarlo per se stesso e per lei e dire che aveva ballato Mouliné di Damm solo perché confuso dalla sua vicinanza ma che importanza aveva un giorno avrebbero ben smesso di ridere forse che di recente una rivista non aveva accettato una sua poesia anche se subito dopo e prima ancora che la poesia potesse apparire aveva cessato le pubblicazioni venuto il giorno della celebrità in cui fosse stato stampato tutto quello che scriveva allora si sarebbe veduto se non avrebbe fatto impressione a Ingeholm non le avrebbe fatto impressione no? ecco a Magdalena Fermeren che cadeva sempre sì a quella sì mai però a Ingeholm mai all'allegra Inge dagli occhi azzurri e allora non era tutto inutile il cuore di Tonio Kruger si strinse dolorosamente a questo pensiero sentire forze meravigliose sfavillanti e malinconiche agitarsi in te e al tempo stesso sapere che coloro ai quali tu aneli vi resistono con serena inaccessibilità fa molto male benché se ne stesse solitario respinto e senza speranza davanti a una persiana abbassata e nel suo tormento finesse di penetrarla con gli sguardi pura era felice perché allora il suo cuore viveva caldo e triste batteva per te Ingeborn Holm mentre l'anima sua avvolgeva in beata abnegazione la tua piccola individualità bionda splendida e altezzosamente semplice più di una volta il viso eccitato andò a mettersi in posti solitari dove musica profumo di fiori e tintinnare di bicchieri trapelavano solo lievemente cercando nel lontano rumore festoso di distinguere la tua voce argentina addolorato per te e pur felice più di una volta si mortificò perché gli era concesso di parlare con Magdalena Vermeeren quella che cadeva sempre perché lei lo capiva parlando con lui di cose allegre e serie mentre la bionda Inge anche se le stava accanto le appariva lontana estranea e strana in quanto la sua lingua non era come la propria eppure era felice la felicità infatti lui si diceva non è l'essere amati questa è una soddisfazione della vanità mista disgusto la felicità è amare e forse ghermire piccoli illusori approcci all'oggetto amato e s'annotò nell'intimo questo pensiero maturandolo radicalmente e percependolo fino in fondo fedeltà pensò Tonio Kreger voglio esserti fedele ed amarti Ingebor finché vivrò tanto sincero era eppure un'inquietudine e una mestizia leggere gli bisbigliarono che aveva dimenticato del tutto persino Hans Hansen sebbene lo vedesse ogni giorno e il brutto e il pietoso fu che quella voce lieve un po' perfida ebbe ragione e il tempo passò e vennero i giorni in cui Tonio Kreger non fu più disposto a morire tanto incondizionatamente per l'allegra Inge perché sentiva in sé voglia e forza di compiere a modo suo nel mondo una gran quantità di cose straordinarie Guardingo circondò l'altare dei sacrifici su cui ardeva la fiamma pura e casta del suo amore vi si inginocchiò davanti attizzandola e alimentandola in tutti i modi perché voleva essere fedele e dopo un certo tempo impercettibile cheta cheta pian piano sarà tuttavia estinta ma Tonio Kreger stette ancora a lungo davanti all'altare ormai freddo stupito e deluso che la fedeltà sulla terra fosse impossibile poi scrollò le spalle e se ne andò per la sua strada se ne andò un po' trascurato in costante fischiettando guardando lontano con la testa inclinata lateralmente per la strada che doveva percorrere e se si smarrì accadde perché una giusta via per certuni non esiste affatto se gli chiedevano che cosa mai pensasse di diventare dava informazioni variabili in quanto usava dire e aveva anche già scritto di avere in sé la possibilità per mille forme d'esistenza segretamente consapevole che in fondo fossero tutte impossibilità già prima che se ne andasse nella città nativa si erano pian piano sciolti i legami e i fili con cui essa lo tratteneva la vecchia famiglia dei Kruger era andata cadendo sempre più in uno stato di sbriciolamento e di disgregazione e la gente aveva motivo ad annoverare tra i contrassegni di quello stato pure la vita e il carattere di Tonio Kruger la madre di suo padre il capo della stirpe era morta e non molto dopo la seguì nella tomba suo padre il signore alto pensieroso accuratamente vestito con un fiore di campo all'occhiello la grande casa dei Kruger era in vendita comprese la sua onorevole storia e la ditta estinta la madre di Tonio invece la sua bella e fuocosa mamma che suonava meraviglia pianoforte e mandolino nella quale tutto era indifferente allo scadere dell'anno si risposò con un bucicante per essere precisi un virtuoso dal nome italiano seguendolo immensamente distante Tonio Kruger trovò la cosa un po' riprovevole ma era qualificato a proibirglielo lui lui che scribeva versi e non sapeva neppure rispondere che cosa mai pensasse di diventare e abbandonò l'angusta città nativa tra i frontoni delle cui case soffiava il vento umido abbandonò la fontana e il vecchio noce nel giardino amici intimi della sua gioventù abbandonò pure il mare che tanto amava senza neanche addolorarsene perché essendo diventato grande avendo messo giudizio conoscendo la propria vocazione provava solo scherno per l'esistenza insulsa e oscura che per tanto tempo lo aveva circondato si consacrò alla potenza che lui considerava la più augusta del mondo che si sentiva chiamato a servire che gli prometteva prestigio e onori la potenza dell'intelletto e della parola che sorridente troneggiava sulla vita ignara e muta e si consacrò con la sua giovane passione ed essa lo ricompensò con tutto quanto ha da donare prendendogli inesorabile tutto quello che usa prendersi in compenso e affidò lo sguardo lasciandolo penetrare nei grandi pensieri che dilatano il petto degli uomini gli dischiuse le anime umane e la sua stessa lo fece chiarovezzente mostrandogli l'interno del mondo e gli estremi dietro parole e fatti ma quanto lui vide era ridicolo e miseria poi con il tormento e l'altericia della coscienza venne la solitudine perché non poteva vedersi nella cerchia degli ingenui allo spirito lietamente astruso e il marchio della sua fronte riturbava ma sempre più si andava mitigando in lui anche la gioia alla parola e alla forma in quanto usava dire e l'aveva pure scritto che la sola conoscenza dell'anima renderebbe senza fallo tetri se non ci fossero a tenersi pronti e desti i piaceri dell'espressione vissa in grandi città e nelle terre del sud dal cui sole si riprometteva una maturità più rigogliosa della sua arte e forse era stato il sangue di sua madre ad attirarvelo ma dato che aveva il cuore morto vacante d'affetti incappò in avventure della carne sprofondò nella vultà e nella passione colpevole soffrendone indicibilmente forse era il retaggio di suo padre il signore alto pensieroso forbitamente vestito con il fiore di campo all'occhiello a farlo soffrire laggiù gestandogli talvolta un ricordo debole e malinconico a un piacere dell'anima un tempo da suo proprio e ora introvabile in tutti gli altri piaceri mentre respirava l'aria dell'arte la tiepida e dolce aria impregnata del profumo di un'eterna primavera in cui germoglia lievita e germina un'intima estesi procreativa ha preso un disgusto e un odio contro i sensi e un anelito di purezza e di pace decorosa così arrivò al punto di condurre buttato qua e là senza sostegno in mezzo a volgari esasperazioni di intellettualismo glaciale e di sensualità ardente una vita estenuante tra crisi di coscienza una vita portentosa dissoluta e straordinaria che lui Tonio Kruger in fondo detestava che labirinto pensava a volte ma com'è stato possibile per me incappare in tutte queste avventure stravaganti eppure non sono uno zingaro nel carrozzone verde i famiglia sono a misura che la sua salute indeboliva andò in asprendosi la coscienza artistica diventando pedante ricercata preziosa aguzza suscettibile al trito e sensibilissima in questioni di tatto e di gusto allorché fu pubblicata per la prima volta una cosa sua i competenti espressero molto applauso e compiacimento in quanto era una cosa lavorata pregevolmente piena di umore e di sofferenza vissuta quella che lui aveva pubblicato e rapidamente il suo nome lo stesso con cui un tempo l'avevano chiamato gli insegnanti per redarguirlo lo stesso con cui aveva firmato le prime rime al noce alla fontana e al mare quel suono formato da meridione e settentrione quel nome borghese soffuso d'esotismo diventò una formula per designare l'eccellenza perché alla compiutezza dolorosa delle sue esperienze si univa uno zelo singolare perseverante e ambizioso che nella lotta con la suscettibilità sofistica del suo gesto faceva nascere tra torture violente opere eccezionali non lavorava come chi lo faccia per vivere bensì alla maniera di uno il quale non abbia altro scopo che lavorare giudicandosi zero da uomo vivente e desiderando essere considerato solo come artefice e per il resto se ne vada in giro modesto e insignificante come un attore struccato il quale non è nulla finché non ha nulla da interpretare lavorava silenzioso appartato invisibile pieno di disprezzo per quei pigmei i quali consideravano il genio un ornamento mondano e poveri o ricchi che fossero andavano vestiti trascurati e cenciosi sfoggiando cravate personali vadando in prima linea a vivere una vita felice attraente e artistica e ignorando che le opere buone nascono solo dallo stimolo d'una vita cattiva che chi non vive non lavora e che sia da essere già morti per essere artefici perfetti disturbo domandò tonio kruger sulla soglia dello studio teneva il cappello in mano e si inchinò persino un poco sebbene elisavia taivanovna fosse l'amica a cui raccontava tutto ma per carità tonio kruger entri pure senza far cerimonie gli rispose con il suo accento saltellante è noto che lei ha goduto di una buona educazione e che sa comportarsi parlando infilò i pennelli nella mano sinistra dove era la tavolozza riporse la destra e lo guardò in viso scuotendo il capo va bene ma lei sta lavorando disse mi faccia un po' vedere oh ha fatto progressi e si mise ad osservare alternativamente gli schizzi a colore appoggiati su dei sedi ai lati del cavalletto e la grande tela ricoperta da una graticola quadrettata su cui dal bozzetto a carboncino confuso e schematico cominciavano ad emergere le prime chiazze di colore accadeva a monaco in un edificio a tergo della Schellingstrasse su molti piani in alto fuori oltre il largo lucernario dominavano blu cielo singhettiò d'uccelli e raggi di sole e l'alito dolce della primavera penetrando da una rivalta aperta si mischiava con l'odore del fissativo e dei colori ad olio che riempiva il grande studio la luce dorata del chiaro pomeriggio inondava liberamente la nudità minuziosa della théier illuminava a distesa il pavimento un po' deteriorato il tavolo sotto la finestra rustico coperto di bottigliette di tubi e di pennelli e gli studi senza cornice appesi alle pareti non tappezzate illuminava il paravento di seta screpolata che vicino alla porta delimitava un angoletto soggiorno e riposo ammobiliato con gusto illuminava l'opera in firi sul cavalletto e davanti la pittrice e lo scrittore poteva avere all'incirca l'età di lui cioè un po' più in là della trentina vestita con un camiciotto blu scuro impiastrizzato se ne stava seduta su uno sgabello basso appoggiando il mento alla mano i capelli oscuri pettinati lisci appena brizzolati alle parti coprivano le tempie con lievi onde verticali incorniciando quel viso bruno dai lineamenti slavi e infinitamente simpatico il naso camuso gli zigomi molto sporgenti e gli occhi piccoli neri e lustri attenta diffidente e quasi eccitata stava squadrando di sghembo e occhi socchiusi il proprio lavoro lui le stava accanto la mano destra appoggiata sul fianco e la sinistra intenta ad arricciare in fretta ai baffi scuri i sopraccigli erano agitati da un movimento cupo e affaticato mentre come al solito lui fischiettava piano era vestito in modo molto accurato e solido un abito grigio morto dal taglio distinto sulla fronte rugosa però dove semplici ordinati si spartivano i capelli scuri c'era uno spasimo nervoso i lineamenti del viso meridionale erano netti quasi come ripassati e marcati con cura mentre la bocca appariva dai contorni delicati e il mento dalla forma sensibile dopo un po' passatisi la mano sulla fronte e sugli occhi si voltò non sarei dovuto venire disse e perché no Tonio Kruger ho appena smesso di lavorare Elisavieta e mi sento la testa proprio come si vede su questa tela un telaio un abbozzo scialbo pasticciato di correzioni e un paio di macchie di colore anche me ne vengo qui e vedo la stessa cosa e ci ritrovo pure i conflitti e i contrasti disse usando l'aria che mi tormentavano a casa strano non appena un pensiero ti domina ecco che te lo ritrovo enunciato dappertutto lo fiuti persino nel vento fissatore aroma primaverile no? arte ma cos'è l'altro? non dica natura Elisavieta natura non dice tutto a passeggio me ne sarei dovuto andare ecco per quanto non è certo che me la sarei passata peggio lontano da qui saranno cinque minuti ho incontrato un collega ad Albert il novellista maledizione alla primavera ha detto in quel suo stile aggressivo e resta la stagione più orribile può lei Kruger concepire un pensiero ragionevole può elaborare tranquillo un momento d'effetto se il sangue le formicola in modo indecente e la turbano innumerevoli sensazioni estrane che non appena si esaminino si rivelano roba notorialmente banale e del tutto inutilizzabile per quanto mi riguarda ora me ne vado al caffè quello è territorio neutrale inviolato dai cambiamenti di stagione che rappresenta vede per così dire la sfera estatica è sublime della letteratura nella quale si è capaci solo di idee distinte e se ne è andato al caffè e forse sarei dovuto andare con lui e Zavietta si divertiva buona quella Tonio Greger quella del formicolio indecente è buona davvero e in un certo senso ha ragione perché in primavera sul serio il lavoro non va tanto bene ma ora stia attento ora nonostante tutto finisco ancora una cosetta questo piccolo momento d'effetto come direbbe ad Alberta poi ce ne andiamo nel salotto a prendere il tè così lei può sfogarsi in fondo lo vedo bene che lei si sente carico intanto ci sistemi un po' in un posto qualsiasi per esempio su questa cassa se non teme di sciupare il suo vestito patrizio ma lasci in pace il vestito l'Izavietta Ivanovna vorrebbe che me ne andasse in giro con una casacca di velluto tutta strappata o con un panciotto di seta rossa come artisti sia sempre abbastanza avventurieri internamente esternamente ci si deve vestire bene perbacco e comportarsi da persone a modo no carico non lo sono disse guardandola mentre stava masticando sulla tavolozza lo sente bene anche lei che è solo un problema di contrasti quello che ho in testa e mi disturbava durante il lavoro ma di che stavamo parlando di Adalbert del novellista e di che uomo altero e duro sia la primavera è la stagione più orribile ha detto e poi se n'è andato al caffè perché si ha da sapere quanto si vuole le pare guardi la primavera rende nervoso anche me la soave banalità di ricordi e di sensazioni che essa destra sconcerta anche me solo che non so decidermi per tale motivo abiasimarla e disprezzarla perché questo è il fatto di fronte ad essa mi vergogno mi vergogno della sua disinvoltura schietta e della sua giovinezza vittoriosa e non so dire se invidiare o disprezzare Adalbert perché non ne sa nulla in primavera si lavora male certo e per qual motivo perché si sente e perché è un superficiale chi crede che il creatore debba sentire ogni artista autentico e leale sorride malinconicamente forse ma sorride per l'ingenuità di questo errore da pasticcioni in quanto a quel che esprime non può mai essere l'essenza bensì soltanto la materia di per sé indifferente da cui ha da formarsi con superiorità facile e pacata l'immagine estetica se ci si tiene troppo a quel che sa da esprimere se il cuore pulsa con troppo impeto allora si può essere certi del fiasco completo se si diventa patetici se si diventa sentimentali sorge sotto le mani un chiedi pesante tragicomico superbo grave insipido noioso trito e la fine non è altro che indifferenza nella gente nient'altro che delusione affanno in se stessi ecco com'è Elisavieta il sentimento il sentimento caldo sincero è sempre trito e ritrito e inutilizzabile mentre artistiche lo sono puramente le eccitazioni e le estasi frigide del nostro sistema nervoso logore ed estetizzante bisognerebbe essere non so che di sovrumano e di mostruoso per avere con l'umanità rapporti stranamente distaccati e neutrali per essere in grado e soprattutto per essere tentati di spacciarlo di finzerlo di esporlo con efficacia e con gusto l'attitudine per stile forma ed espressione implica già questo rapporto freddo e sofistico verso l'umanità persino un certo depauperamento e un certo squallore naturali perché il sentimento sano e forte c'è poco da dire gusto non ne ha l'artista sparisce non appena diventi uomo e comincia ad aver sensibilità ad albert lo sapeva e se ne è andato al caffè nella sfera estetica ecco bene che dio l'accompagni batiusca disse l'izzavieta lavandosi le mani in un catino lei non ha certo bisogno di seguirlo no elisavieta non lo seguo e precisamente perché di tanto in tanto sono in grado di vergognarmi un po' della primavera della mia coscienza artistica vede a volte ricevo lettere da estranei missive di lode e di gratitudine del mio pubblico scritti pieni d'ammirazione di gente commossa facendo quegli scritti mi sento a poco a poco turbato al cospetto del sentimento caldo umano e goffo provocato dalla mia arte mi prendo una specie di compassione di fronte all'ingenuità entusiasta che vi si legge tra le righe arrossisco pensando quanta delusione proverebbe quel uomo da bene se mai desse uno sguardo dietro le quinte se mai capisse che un uomo leale sano e onesto non scrive non mima non compone affatto cose tutte però che non mi impediscono di valermi della sua ammirazione verso il mio ingegno per migliorarmi e stimolarmi di prenderla con serietà enorme facendo per l'occasione le smorfie d'una scimmia che interpreta il grand'uomo via non mi interrompa Elisavieta e lo dico io che spesso sono stanco morto di rappresentare l'umano senza far parte dell'umano ma che è l'uomo ma è uomo l'artista non si chieda alla femmina si pare che noi artisti condividiamo un po' tutti il destino di quei cantori della cappella papale cantiamo bene da commuovere però un pochino almeno dovrebbe vergognarsi Tonio Kruger venga a prendere il tè ora l'acqua bolle subito ed eccole anche le sigarette era rimasto alle voci bianche prosegua pure ma dovrebbe vergognarsi che non sapessi con quale trasporto orgoglioso lei è attaccato al suo mestiere non dica mestiere Elisavieta Ivanovna la letteratura non è affatto un mestiere ma una maledizione perché lei lo sappia quando prende a pesare questa maledizione presto tremendamente presto in un periodo in cui dovrebbe essere ancora facile vivere in pace con Dio e con il mondo si comincia a sentirsi segnati a sentirsi in dissidio enigmatico verso gli altri i comuni normali la voragine di ironia miscredenza opposizione sapere sentimento che separa se stessi dagli uomini si spalanca sempre più profonda si è soli da quell'istante non c'è più comprensione che destino ammesso che il cuore abbia ancora tanta vita e tanto amore per sentirne l'atrocità l'autocoscienza si infiamma perché si avverte tra migliaia di persone il segno sulla propria fronte e si sente che non sfugge a nessuno io conobbi un attore di genio il quale come uomo aveva da lottare con una timidezza e una precarietà morbose in cui l'artista perfetto e uomo depauperato erano causate dell'egotismo sovraeccitato e dalla mancanza di parti di compiti interpretativi un artista uno vero e non uno la cui professione civile sia l'arte ma uno predestinato e dannato lei lo può distinguere con un minimo di perspicacia in mezzo a una massa di gente nel suo viso ci sono senso di isolamento e di separazione senso dell'essere conosciuto e osservato qualcosa di irregale e al tempo stesso di impacciato quanto con una certa analogia si può osservare nei lineamenti di un principe che attraversi in borghese una folla ma nel nostro caso non c'è borghese che tenga l'izzavieta ci si può travestire imbacuccare cammuffare da tasceo da sottotenente della guardia in ferie senza che neppure si riesca a battere ciglio o a pronunciare una sola parola tutti sapranno di non aver da fare con un essere umano ma con un chedi estraneo sorprendente diverso ma che cos'è l'artista la pigrizza intellettuale e l'indolenza dell'umanità non hanno mai mostrato maggiore ostinazione che di fronte a questa domanda ingegno dicono umilmente i poveri diavoli che sono sotto l'influsso di un artista e poiché gli influssi sereni e sublimi secondo la loro bonaria opinione devono assolutamente avere origini serene e sublimi nessuno sospetta che forse in questo caso si possa trattare di un ingegno di pessima provenienza e discutibilissimo si sa che gli artisti sono suscettibili ora si sa pure che ciò non usa accadere a persone a posto e con autocoscienza dalle basi solide e vede l'isavieta io nutro metaforicamente in fondo all'anima verso il tipo dell'artista quella forte diffidenza che ogni mio onorevole antenato lassù nell'angusta città avrebbe mostrato a qualunque saltimbanco giocoliere errante entrato gli in casa senta un po' questo fatto io conosco un banchiere un anziano uomo d'affari il quale ha l'ingegno per scrivere novelle si applica questa attitudine nelle ore d'ozio e i suoi lavori a volte sono davvero eccellenti nonostante dico nonostante questa disposizione sublime quel uomo non è affatto irreprensibile al contrario ha già scontato e per validissimi motivi una grande pena detentiva in verità fu proprio nel penitenziario che si avvide di quella tendenza e le sue esperienze carcerarie formano il motivo dominante di tutti i suoi lavori con un certo ardire si potrebbe dedurre che occorre essere pratici di un tipo qualsiasi di penitenziario per diventare scrittori ma non sorge irresistibile il sospetto che le sue vicende carcerarie fossero legate alle radici e alle origini della sua vocazione artistica meno profondamente di quanto lo aveva portato dentro un banchiere che scriva novelle è una rarità no? ma un banchiere non criminale insensurato e solido il quale scriva novelle è una cosa che non succede lei sa lei lei se la ride eppure io non scherzo mica poi tanto nessun problema nessuno al mondo è più tormentoso di quello della coscienza artistica e delle sue conseguenze umane prenda l'opera più splendida del più tipico e perciò più autorevole artista prenda un'opera delicata e profondamente ambigua come Tristano Isotta e asservi l'effetto che quest'opera produce su un giovane di sensibilità sana forte e normale lei vedrà elevatezza rafforzamento entusiasmo caldo ed onesto forse stimolo a creazione artistica propria un bravo dilettante e noi altri artisti è tutto fondamentalmente diverso di quanto lui con cuore caldo ed entusiasmo onesto possa sognare ho veduto artisti corteggiati e festeggiati da donne e giovani mentre io di loro sapevo per quanto riguarda l'origine i fenomeni e le circostanze della vita artistica si fanno esperienze sempre più strane sugli altri Tonio Kruger mi scusi solo sugli altri e gli tacque aggrottò i sopraccigli e fischiettò mi dia la sua tazza per favore Tonio non è forte e si prenda un'altra sigaretta del resto lo sa bene lei di giudicare le cose come non hanno da essere giudicate questa è la risposta di Orazio caro Elisavieta osservare le cose in tal modo significherebbe osservarle troppo precisamente non è così? io le dico che si può osservarle con altrettanta precisione da un altro punto di vista Tonio Kruger sono soltanto una donnetta stupida che dipinza io anche se ho qualcosa da replicare anche se so proteggere un po' da lei la sua professione non c'è sicuro nulla di nuovo nei miei argomenti ma solo una munizione a quanto lei stesso sa già bene allora l'affetto purificatore e santificante della letteratura la distruzione delle passioni per mezzo di conoscenza e di parola la letteratura come via per comprendere per perdonare per amare la forza dentrice della lingua lo spirito letterario quale il fenomeno più nobile dell'intelligenza umana il letterato quale uomo completo quale santo osservare le cose in tal modo significherebbe osservarle con precisione insufficiente lei ha ragione di parlare così ilizavieta Ivanovna considerando cioè l'opera dei suoi scrittori l'adorabile letteratura lussa che rappresenta tanto giustamente in realtà la letteratura sacra di cui lei sta parlando ma io le sue obiezioni non le ho trascurate bensì essi appartengono a quanto oggi io penso sempre mi guardi un aspetto eccessivamente allegro non ce l'ho vero? un po' invecchiato stanco e con il viso affilato no? ora ritornando alla conoscenza si potrebbe pensare a un uomo il quale per natura in buona fede mansueto benevolo è un po' sentimentale fosse annientato e rovinato semplicemente dalla perspicacia psicologica non farsi sopraffare dalla mestizia del mondo osservare ricordare connettere anche la cosa più angosciosa e per il resto essere di buon umore sta in piena coscienza della superiorità morale sulla ripugnante invenzione dell'essere sì certo a volte però nonostante tutti i piaceri dell'espressione la faccenda ne prende la mano capire tutto significherebbe perdonare tutto non lo credo davvero c'è qualcosa che io il Zavieta chiamo disgusto della conoscenza lo stato in cui all'uomo basta intuire un fatto per sentirse subito disgustato da morire e non disposto all'accomodamento il caso di Amleto il danese quel letterato tipico lui sapeva che cosa significhi venire chiamato a conoscere senza essere nato per farlo presentire per di più attraverso il velo di lacrime del sentimento riconoscere ricordare osservare e dover mettere in disparte sorridendo le cose osservate nell'istante in cui le mani s'avvinghiano le labbra si incontrano in cui lo sguardo umano accecato dalla sensività si spegne è infame è infame Elisabetta è perfido fa indignare ma a che serve indignarsene un lato diverso ma non meno attraente della faccenda e poi si capisce la fatia l'indifferenza e la stanchezza ironica verso ogni verità come peraltro è un fatto che nessun posto al mondo è dominato da più mutismo e più disperazione di una cerchia di persone geniali in sostanza già furbissime ogni conoscenza è vecchia e noiosa provi a esprimere una verità alla conquista e al possesso della quale lei forse ha una certa gioia giovanile e sentirà rispondere alla sua spregiudicatezza con una brevissima emissione d'aria dal naso proprio così la letteratura stanca Elisabetta nella società umana è assicuro a uno può accadere ad essere ritenuto stupido a forza di scetticismo circospezione mentre si è solo orgogliosi e scoraggiati questo sulla conoscenza per quanto invece riguarda la parola non si tratta forse in questo caso non tanto di redimere quanto invece di liquidare e mettere in ghiaccio la sensività sul serio c'è una ragione glaciale rivoltantemente usurpata in questa liquidazione spedita e superficiale del sentimento per mezzo della lingua letteraria ha il cuore traboccante si sente troppo toccata da una vicenda dolce o sublime niente di più facile vada dal letterato e tutto in brevissimo tempo verrà sistemato analizzando e redigendo la sua faccenda chiamandola per nome dandole espressione e portandola a parlare le liquiderà il tutto per sempre glielo renderà indifferente senza pretendere alcuna ricompensa ma lei se ne andrà a casa alleggerita rinfrescata e purificata meravigliandosi che cosa mai nella faccenda poco prima potesse sconvolgerla con tanta dolce confusione e lei vuole sul serio farsi garante per quel ciarlatano freddo e presuntuoso quel che è esternato dice il suo credo è liquidato e se si fosse esternato tutto il mondo anche quello sarebbe liquidato redento finito benissimo però non sono un nichilista io lei non è disse Elisavieta stava tenendo il cucchiaino con il tè vicino alla bocca e si rigidì in quella posizione via via si riprende Elisavieta non lo sono e dico in quanto ha sentimento vivo vede il letterato in fondo non capisce che la vita ha voglia di continuare a vivere che non se ne vergogna pur essendo stata sfogata e liquidata ma guarda un po' nonostante la redenzione per mezzo della letteratura continua imperterrita a peccare perché ogni traffico è peccato agli occhi dello spirito sono alla meta Elisavieta ascolti io amo la vita questa è una confessione la accetti e la conservi non l'ho ancora fatta a nessuno si è detto si è persino scritto e fatto anche pubblicare che io odio o temo oppure disprezzo anche detesto la vita mi è piaciuto sentirlo è lusingato ma peraltro non è meno sbagliato io l'amo la vita lei sorride Elisavieta e io so di che ma la scongiuro di non considerare letteratura quanto vado dicendo non pensi al Cesare Borja o a una qualche filosofia ebbra che lo esalti non fa per me quel Cesare Borja non gli do neppure la minima importanza e non capirà mai e poi mai come si possono venerare quali ideali lo straordinario e il demoniaco no la vita qual eterno contrasto così come sta di fronte allo spirito e all'arte non si presenta e non comuni come una visione di grandezza sanguinosa e di bellezza furente non come il non comune ma come il normale la modo l'attraente e l'impero della nostra malinconia è la vita nella sua trivialità seduttrice gli manca ancora molto per essere artista mia cara a colui per il quale l'ultima e più profonda esaltazione sia lo smaliziato l'eccentrico il satanico e a colui che non conosca la malinconia per l'ingenuo il semplice il vivente per un po' d'amicizia di dedizione di confidenza e di felicità umana la malinconia furtiva e struggente l'isavieta per le delizie della mediocrità un amico tra gli uomini vuole credere lei che sarei orgoglioso e felice di possedere un amico tra gli uomini ma fino ad ora ho avuto amici solo tra i demoni farfarelli mostri oscuri e fantasmi afasici vale a dire tra letterati a volte mi capita ad andare a finire su un podio di trovarmi in una sala di fronte a degli uomini venuti per ascoltarmi vede poi mi accade d'osservarmi a guardare intorno nel pubblico di sorprendermi a scrutare segretamente nell'auditorio con il dubbio in cuore che possa essere colui che mi viene incontro di cui mi giunge l'applauso e il ringraziamento con cui la mia arte mi procura un'alleanza ideale non trovo quanto cerco l'isavieta la massa e comunità trovo a me ben nota presso poco una riunione dei primi cristiani tente dai corpi goffi e dall'anima fine tente che per così dire cade sempre e mi capisce e la cui poesia è una blanda vendetta contro la vita sempre soltanto sofferenti e malinconici e poveretti e mai qualcuno degli altri di quelli dagli occhi azzurri di savieta che non hanno bisogno dello spirito e infine non sarebbe una depolorevole mancanza di coerenza rallegrarsi che fosse altrimenti è assurdo amare la vita e tuttavia sforzarsi con tutti gli artifici di tirarla dalla propria parte interessarla alla finezza e alle malinconie a tutta la nobiltà malata della letteratura il regno dell'arte si ingrandisce e quello della salute e dell'innocenza si restringe a questo mondo e quanto ancora ne rimane si dovrebbe conservarlo nel modo più accurato e non si dovrebbe voler sedurre alla poesia gente che preferisce piuttosto leggere libri di cavalli con istantanee perché in fondo quale spettacolo sarebbe più misero di quello della vita cimento con l'arte noi artisti non disprezziamo nessuno più profondamente del dilettante del vivente che crede di poter essere artista aggiunta così all'occorrenza assicuro questo tipo di disprezzo appartiene nelle mie vicende personali mi trovo a un ricevimento in una buona famiglia si mangia si beve si chiacchiera comprendendosi ottimamente e mi sento felice e grato di poter sparire per un po' tra gente ingenua normale come un lor pari da un tratto questo mi è accaduto salza in piedi un ufficiale un sottotenente un bel uomo gagliardo che io non avrei mai creduto capace di un comportamento indegno dell'uniforme che portava e chiede con parole inequivocabili il permesso di leggerci alcuni versi da lui composti con sorrisi sbalorditi il permesso gli viene dato ed egli mette in atto il proposito leggendo il lavoro da un foglietto fino allora tenuto nascosto nella tasca della giubba qualcosa alla musica e all'amore in poche parole tanto profondamente sentita quanto inefficace ora io mi chiedo un sottotenente un uomo di mondo davvero non ne aveva bisogno poi segue quanto deve seguire facce lunghe silenzio un po' di applausi artificiosi disagio profondissimo tutto attorno il primo fatto psichico di cui mi rendo conto è che mi sento complice del turbamento causato alla riunione da quel giovane sconsiderato e senza dubbio gli sguardi beffardi e gelidi sono anche per me il cui mestiere lui ha abborracciato ma il secondo è che quest'uomo per il cui carattere per la cui esistenza poco prima sentivo ancora il più onesto rispetto ai miei occhi improvvisamente scende 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 mi prende una benevolenza compassionevole insieme con gli altri signori di cuore e buonari avanzo verso di lui e gli rivolgo la parola i miei complimenti dico signor tenente un bell'insegno è stato davvero incantevole e poco ci manca che gli batta la mano sulla spalla ma è benevolenza il sentimento da mostrarsi a un sottotenente colpa sua è colore imbarazzatissimo a espiare l'errore che si possa cogliere una fogliolina un'unica fogliolina dall'auro dell'arte senza incompenso dover pagare con la propria vita no in tal caso tengo per il mio collega il banchiere criminale ma lei Elisavieta non trova che oggi io sia ad una loquacità amletica ha finito ora Antonio Krueger no ma non dico più niente e basta anche si aspetta una risposta ce l'ha penserei di sì io l'ho ascoltata bene Tonio dal principio alla fine e voglio darle la risposta che si adatti a tutto quanto lei oggi nel pomeriggio ha detto e che sia la soluzione del problema a causa del suo turbamento allora la soluzione è che lei così come se ne sta seduto qui è in tutto e per tutto un borghese che sono domanda lui accacciandosi un po' un colpo duro no e deve anche esserlo perciò voglio mitigare un pochino la sentenza dato che posso farlo lei è un borghese lei è un borghese su strade sbagliate Tonio Krueger un borghese smarrito silenzio poi alzatosi afferrò cappello e bastone la ringrazio Elisabetta Ivanovna ora posso andarmene a casa alleggerito sono liquidato 5 verso l'autunno Tonio Krueger disse Elisabetta Ivanovna me ne vado Elisabetta ho bisogno d'aria per allontanarmi di prendere un po' il largo beh come mai piccolo padre forse vogliamo andare di nuovo in Italia insomma esci in pace l'Italia sempre l'Italia Elisabetta l'Italia mi è indifferente fino alla nausea è ormai lontano il tempo in cui mi illudevo ad esserci di casa arte vero cielo azzurro vellutato vino generoso e dolce sensualità in poche parole cose che non mi vanno si rinuncio mi dà in nervi tutta la bellezza laggiù non posso neppure soffrire quella gente vivace con lo sguardo animalesco oscuro non ne hanno coscienza negli occhi di latini no ora me ne vado un po' in Danimarca in Danimarca? sì e mi riprometto cose buone per caso non ci sono mai andato fin lassù nonostante fossi tanto vicino al confine per tutti gli anni della gioventù eppure ho sempre amato e conosciuto quella terra questa tendenza nordica devo averla da mio padre perché mia madre in realtà era più per la bellezza quando cioè non l'era tutto indifferente ma pensi ai libri che si scrivono lassù quei libri profondi puri umoristici di Zavieta nulla ma è più caro li amo pensi ai pasti scandinavi quei pasti incomparabili che si digeriscono solo in un'aria molto salmastra non so se riuscirò ancora a digerirli e che conosco un po' da casa mia perché dalle mie parti si mangia già così pensi anche solo ai nomi i nomi di battesimo che lassù la gente porta e che pure dalle mie parti sono comuni un suono come Ingeborg un arpeggio della più immacolata poesia e poi il mare hanno il mar baltico lassù in una parola ci vado l'isavieta voglio rivedere il mar baltico voglio risentire quei nomi leggere quei libri sul posto voglio pure recarmi sulla terrazza di Kronborg dove lo spirito apparve ad Amleto portando al povero giovane nobile dolore e morte e se è lecito a domandare come ci va Tonio che rotta fa la solita disse lui scrollando le spalle e arrossendo visibilmente sì toccherò la mia il mio luogo di origine il zavieta e dopo tredici anni la faccenda può diventare piuttosto strana lei sorrisa ecco quanto volevo sentire Tonio Krieger allora che Dio l'accompagni e non si dimentichi di scrivermi mi sente mi auguro una lettera piena di eventi dal suo viaggio in Dalimarca e Tonio Krieger partì per il nord concedendosi delle comodità che nell'intimo pena tanto più degli altri ha ben diritto a un po' di agio esteriore usava dire e non fece soste finché non si alzarono davanti a lui nell'aria grigia le torri dell'augusta città dalla quale un tempo era partito e vi trascorse un soggiorno breve e strano un pomeriggio tetro stava già volgendo a sera quando il treno fece ingresso nella stazione stretta affumicata la caligine come sempre andava ammassandosi sotto la sporca tettoia a vetri trascinandosi qua e là in brandelli allungati come al tempo in cui tonio Krueger nient'altro che scherno in cuore ne era partito provvide ai bagagli ordinando che fossero portati all'albergo e lasciò la stazione eccole fuori in fila le carrozzelle a due cavalli nere smisuratamente alte e larghe non vi salì le guardò come guardava tutto i frontoni snelli e le torri appuntite che lo salutavano dai tetti più vicini la gente tutt'intorno bionda e goffa dalla parlata larga ma rapida e divenne una risata nervosa molto simile al singhiozzo sul viso la costante pressione del vento traversò il ponte dai parapetti ornati di statue mitologiche e camminò a piedi per un lungo tratto il porto mio dio come sembrava tutto minuscolo e tortuoso le strade tornate di frontoni erano sempre salite scoscese verso la città in modo così stravagante sul fiume torrido tondolavano lievi al vento nella penombra i fumaioli e gli alberi delle navi ci doveva andare su per quella stradetta quella là dove c'era la casa che lui aveva in mente no domani aveva tanto sonno adesso si sentiva la testa pesante per il viaggio e nella mente gli passavano pensieri esitanti e nebulosi a volte in quei tredici anni quando lo stomaco era pesantito aveva sognato ad essere di nuovo nella città nativa nella vecchia casa dissonante dell'erta stradetta e che anche suo padre ci fosse di nuovo e lo sgridasse aspramente per il suo stravagante modo di vivere cos'è che lui ogni volta però aveva trovato giustissima e il presente non era per nulla diverso da una di quelle trame chimeriche seducenti e incancellabili in cui chiedendosi se si tratti di illusione o di realtà si sceglie persuasi volenti onolenti l'ultima per tuttavia alla fine svegliarsi camminava per le strade ventose e poco animate avviandosi come un sonnambulo a testa bassa contro il vento in direzione dell'albergo il primo della città in cui voleva pernottare lo precedeva un uomo dalle gambe storte e dal passo dondolante dei marinai il quale con una stanga sulla cui cima bruciava una fiammella andava accendendo le lanterne a gas ma come si sentiva che cosa covava sotto la cenere della stanchezza vagamente e dolorosamente senza diventare fiamma viva zitto zitto senza nemmeno una parola senza parole mi sarebbe piaciuto andarsene a lungo così al vento per le stradette semibuie e familiari come in sogno ma tutto era tanto angusto e tanto stretto subito si era alla meta nella città alta c'erano i lampioni che appunto stavano ardendo e c'era l'albergo con due leoni neri davanti che da bambino lo avevano spaventato ancora rivolti l'uno verso l'altro a guardarsi con l'aria di chi vuole starnutire ma sembravano molto più piccoli di allora voglio crecher ripassò in mezzo essendo arrivato a piedi fu ricevuto senza tante cerimonie il portiere è un signore molto distinto vestito di nero in quale faceva gli onori e senza posa con i mignoli spingeva nelle maniche i polsini lo squadrarono da capo a piedi verificando e ponderando sforzandosi con evidenza di classificarlo socialmente di collocarlo secondo condizione ecceto e destinargli un posto nella loro stima ma non potendo giungere a un risultato appagante si decisero per una cortesia moderata un cameriere un tipo mansueto dagli scopettoni biondo pane con il frac lustro di vecchiezza e fiocchi di raso alle scarpe silenziose lo condusse al secondo piano in una stanza linda e ammobiliata all'antica dietro la cui finestra s'apriva nella penombra una vista pittoresca e medievale su cortili frontoni e sulle forme bizzarre della chiesa nelle cui vicinanze era situato all'albergo Tonio Krueger indugiò a lungo davanti a quella finestra poi sedutoci a brazza incrociate sull'ampio divano aggrottò i sopraccigli e fischiettò fu portato un lume e arrivò il bagaglio al tempo stesso il masfetto cameriere depose sul tavolo il modulo di notifica e Tonio Krueger riscarabocchiò sopra tenendo la testa inclinata di fianco qualcosa che assomigliava a nome seto e provenienza poi ordinata la cena continuò dall'angolo del divano a guardare nel vuoto quando ebbe davanti il mangiare lo lasciò ancora a lungo e intatto finalmente buttò giù un paio di bocconi e per un'ora intera camminò avanti e indietro nella stanza fermandosi ogni tanto e chiudendo gli occhi dopo lentamente si spogliò e si misaletto dormì parecchio sognando cose intricate e molto malinconiche non appena si svegliò vide la stanza inondata dal chiarore del giorno cercò di ricordarsi in fretta e furia e confuso dove fosse e si avviò ad aprire le tende l'azzurro già un po' pallido del cielo tardo estivo era attraversato da radi cumuletti sfilacciati dal vento ma sulla sua città natale splendeva il sole con maggiore cura del solito si occupò della toletta si lavò e si rasa alla perfezione facendosi netto e pulito come se si proponesse una visita in una casa buona e per bene dov'è importante fare un'impressione piacevole e irreprensibile e mentre stava vestendosi ascoltò i battiti ansiosi del suo cuore il chiaro c'era fuori e sarebbe sentito meglio se come il giorno prima per le strade ci fosse stato il crepuscolo ora però doveva camminare alla luce del sole sotto gli occhi della gente ci sarebbe imbattuto in conoscenti sarebbe stato fermato interrogato avrebbe dovuto dar spiegazioni di come aveva passato quei tredici anni no per fortuna nessuno più lo conosceva e chi si fosse ancora ricordato di lui non lo avrebbe riconosciuto perché nel frattempo era davvero un po' cambiato guardandosi con attenzione allo specchio si sentì da un tratto più sicuro dietro la sua maschera dietro il suo viso prematuramente rugoso più vecchio dell'età che aveva si fece portare la colazione e poi uscì passando sotto gli sguardi sprezzanti del portiere del signore distinto il nero attraverso l'atrio e in mezzo i leoni uscì all'aperto ma dove andare eppure lui lo sapeva era come il giorno prima non appena si rivide attorniato da quell'insieme molto dignitoso e arci familiare di frontoni torrette portici fontane non appena sentì in faccia la pressione del vento il vento forte che portava con sé un aroma delicato e aspro di sogni lontani gli scese sullo spirito un velo quasi come una trama nebulosa i muscoli del viso si rilassarono e con lo sguardo più sereno guardò uomini e cose può darsi che a quell'angolo di strada là si sia svegliato ma dove andare gli sembrava che la direzione presa fosse in rapporto con i sogni tristi e dolorosi della notte andò al mercato passando per i portici del municipio dove dei macellai pesavano con mani insanguinate la loro merce sulla piazza del mercato andò dove alta cuspidale multiforme c'era la fontana gotica e si fermò davanti a una casa una angusta e semplice uguale a tante altre ancora e con un frontone incurvato e traforato e si sprofondò ad ammirarla dopo aver letto il nome della targhetta alla porta fece scorrere un po' lo sguardo su ogni finestra poi pian piano si voltò per andarsene ma dove andare verso casa ma allungò la strada facendo una passeggiata fuori porta perché aveva tempo percorse i Mühlenwald e l'Ostenwald trattenendo il cappello al vento che sibilava e crepitava negli alberi poi lasciò l'argine non lontano dalla stazione vide un treno passare sbuffando con sollecitudine sgraziata per passatempo ne contò i vagoni seguendo con lo sguardo l'uomo e se ne stava seduto alto alto nell'ultimo ma nella linda in piazza si fermò davanti a una delle graziose ville scrotò a lungo nel giardino e su verso le finestre e infine pensò di far dondolare sui cardini il cancello così da sentire un forte stridio poi si contemplò un pochino la mano diventata fredda e rugginosa e andò avanti passando per la vecchia porta puntellata camminò lungo il porto e per la strada ripida e ventosa salì alla casa dei suoi genitori si trovava chiusa dalle case dei vicini che ne superavano il frontone grigio e severo come già 300 anni prima e Tonio Kruger si mise a leggere il motto Pio scritto sopra l'entrata con lettere ormai semi cancellate poi respirò profondamente ed entrò un cuore gli batteva ansioso per il timore che da una delle porte a pian terreno davanti alle quali stava camminando potesse uscire suo padre in giacchetta da contabile e la penna dietro l'orecchio per fermarlo e chiedergli conto della sua vita stravagante cosa che gli avrebbe trovato giustissima ma passò indisturbato la bussola non era chiusa ma solo appoggiata e mentre da una parte trovò la cosa deplorevole si sentì come in certi sogni leggeri in cui gli ostacoli si ritirano da soli e si avanza liberamente favoriti da una meravigliosa fortuna l'ampia anticamera pavimentata con grandi piastrelle quadrate risuonava ai suoi passi di fronte alla cucina dove c'era silenzio sporgevano dalla parete come a un tempo a un'altezza considerevole gli originali stambugi delle serve cui si accedeva solo dall'anticamera a una specie di scala all'aperto non c'erano più i grandi armadi e la cassa panca intagliata ad una volta il figlio di casa cominciò a salire lo scalone enorme appoggiando la mano alla ringhiera verniciata di bianco e traforata alzandola a ogni passo e facendola leggermente ricadere al successivo quasi volesse timidamente provare la possibilità di concedere l'antica fiducia quella vecchia e solida l'inghiera e sul pianerottolo davanti all'entrata del mezzanino si fermò alla porta era fissata una targa in cui in lettere nere stava scritto biblioteca popolare biblioteca popolare pensò Antonio Krieger trovando che lì non c'entrassero affatto né il popolo né la letteratura bussò alla porta sentì un avanti ed entrò al suo sguardo curioso e turbato si presentò un mutamento da non credersi neppure il piano era formato di tre stanze in profondità e le porte di comunicazione stavano aperte per quasi tutta l'altezza alle pareti libri dalla rilegatura uniforme in lunghe file di scaffali scuri in ogni stanza dietro una specie di bancone se ne stava seduto un povero diavolo mentre due volsero solo la testa verso Antonio Krieger il primo si alzò sollecito appoggiandosi con entrambe le mani sul piano del tavolo spinse la testa in avanti sforse le labbra alzò i sopraccigli e guardò il visitatore battendo velocemente le palpebre mi scusi disse Antonio Krieger senza distogliere lo sguardo da tutti quei libri io sono forestiero qui sto visitando la città allora questa è la biblioteca popolare mi permetterebbe di dare un'occhiata alla raccolta per farmene un'idea certo disse l'impiegato battendo le palpebre con maggiore energia certo è permesso a tutti vuole solo dare un'occhiata vi la direbbe un catalogo no grazie rispose Antonio Krieger mi raccapezzo facilmente e cominciò a camminare lento lungo le pareti andosi l'alia di esaminare i titoli sul dorso dei libri infine prese un volume e tenendolo aperto in mano andò a mettersi presso alla finestra la stanza per la colazione era stata quella la mattina facevano colazione lì non nella sala da pranzo grande dove dalla tappezzeria azzurra sporgevano bianche statue mitologiche e quella era stata la camera da letto era morta la madre di suo padre di vecchiaia lottando duramente perché era una donna di gran mondo gaudente e attaccata alla vita e più tardi vi aveva mandato l'ultimo respiro anche il suo padre quel signore alto corretto un po' malinconico e pensieroso con il fiore di campo all'occhiello tonio era stato ai piedi del letto di morte con gli occhi arrossati preso tutto e sinceramente da un sentimento muto e forte da affetto e dolore e anche sua madre la sua mamma bella e focosa era stata inginocchiata a quel letto sciogliendosi in calde lacrime e poi se n'era andata immensamente distante con quell'artista meridionale da dietro però la terza stanza la più piccola ora pure piena di libri e guardata da un povero diavolo per anni era stata la sua se ne ritornava là dopo la scuola dopo aver fatto come ora una passeggiata a quella parete c'era il suo tavolino nel cui cassetto aveva custodito i suoi primi versi intimi e disperati il noce una malinconia lancinante lo fece sussultare guardò di lato attraverso la finestra il giardino era incolto ma il vecchio noce crepitando pesante e stormendo al vento se ne stava sempre al suo posto e Antonio Krieger ritornò con gli occhi sul libro che teneva in mano un'opera letteraria eccellente a lui ben nota guardò caratteri e righe nere seguendo un po' la scorrevolezza artistica del racconto che si elevava a un momento d'effetto interrompendoci poi in un momento suggestivo sì davvero ben fatto disse e posato il libro si voltò e vide l'impiegato sempre in piedi battere ancora le palpebre con un'espressione di zelo professionale misto a diffidenza preoccupata una raccolta eccellente mi pare disse Antonio Krieger un'idea generale me la son già formata e sono molto obbligato adie andò verso la porta e uscì ma fu un'uscita incerta avendo chiaramente intuito che l'impiegato inquietissimo per quella visita sarebbe rimasto in piedi battendo le palpebre ancora per minuti non si sentiva portato ad inoltrarsi ancora a casa c'era stato su nelle grandi stanze dietro il portico si abitava gente sconosciuta lo vedeva bene perché la scala era chiusa da una porta a vetri un tempo inesistente e sopra c'era una targhetta con un nome scese le scale e traversando la risonante anticamera abbandonò la casa dei suoi genitori nell'angolo di un ristorante consumò tutto assorto un pasto pesante e grasso ritornandosene poi all'albergo ho sbrigato tutto disse al signore distinto in nero oggi nel pomeriggio parto e ordinò il conto e pure la carrozza che avrebbe dovuto condurlo al porto al vapore per copenhagen poi se ne incamera si sedette al tavolo appoggiò la guancia nella mano istando silenzioso con lo sguardo vuoto e il ripiano più tardi saldò il conto e preparò la sua roba allora stabilita fu annunziata la carrozza e tonio crooker scese pronto per il viaggio giù ai piedi della scala lo attendeva il signore distinto in nero scusi disse spingendo con i mignoli i polsini nelle maniche perdoni signore se la disturbiamo ancora per un minuto il signor Zee Haas il proprietario dell'albergo la prega per un colloquio di due parole una formalità si trova là dietro lui se vuole avere la compiacenza di seguirmi è solo per il signor Zee Haas il proprietario dell'albergo e con gesti invitanti guidò tonio crooker verso il fondo dell'atrio dove infatti si trovava il signor Zee Haas tonio crooker lo conosceva di vista ancora dai vecchi tempi piccolo grasso dalle gambe storte i favoriti ben aggiustati erano diventati bianchi ma portava ancora un'ampia giacca di fracche e una papalina di velluto ricamata in verde inoltre non era solo presso di lui accanto a uno scrittoio fissato alla parete c'era elmo in testa un poliziotto il quale tenendo la mano destra inguantata su un foglio scritto in vari colori davanti a lui sullo scrittoio guardava tonio crooker con quella sua faccia onesta da soldato come se si aspettasse di vederlo sprofondare per terra una volta una volta giunto al suo cospetto tonio crooker guardò l'uno e l'altro e si mise ad attendere lei viene da monaco gli domandò finalmente il poliziotto con voce buonaria e grave tonio crooker affermò lei va a copenhagen sì sono in viaggio per una stazione balneare danese stazione balneare va bene ma mi deve esibire i documenti disse il poliziotto pronunciando l'ultima parola con soddisfazione particolare documenti lui documenti non ne aveva tirò fuori il portafoglio e riguardò dentro ma oltre ad alcune banconote vi si trovava solo la bozza di stampa di una novella bozza che aveva pensato di correggere non appena giunto alla meta non gli piaceva aver da fare con funzionari e non si era mai fatto rilasciare il passaporto mi dispiace disse ma con me non ho nessun documento ah sì disse il poliziotto proprio nessuno come si chiama lei tonio crooker gli rispose ed è anche vero replicò il poliziotto granchendosi e spalancando improvvisamente le narici assolutamente vero rispose tonio crooker ma che cos'è lei tonio crooker deglutì e poi con voce ferma nominò la sua professione il signor Zee Haas alzò la testa guardandolo in faccia incuriosito ma disse il poliziotto e lei rifiuta l'identificazione con un individuo di nome individuo aveva detto e poi si labò leggendolo dal foglio di carta scritto in diversi colori un nome strambissimo e romantico e sembrava una mescolanza bizzarra di suoni di diverse razze e che tonio crooker nell'istante successivo aveva già dimenticato figlio di ignoti continuò e senza fissa dimora il quale è ricercato dalla polizia di monaco per parecchie truffe e per altri reati e probabilmente è in fuga per la danimarca non solo lo dichiaro ma disse tonio crooker facendo un movimento nervoso con le spalle la cosa suscitò una certa impressione come ho capito certo disse il poliziotto ma che lei non possa esibire proprio niente anche il signor Zee Haas intervenne in tono accomodante il tutto è solo una formalità disse e nient'altro lei deve pensare che il funzionario fa solo il suo dovere se soltanto lei potesse provare in un modo qualsiasi la sua identità un documento tutti tacquero doveva lui metter fine all'incidente facendosi riconoscere rivelando al signor Zee Haas di non essere un filibustiere senza fissa dimora di non essere di nascita uno zingaro nel carrozzone verde mensil figlio del console Kruger della famiglia dei Kruger no non ne aveva voglia di farlo e non erano un po' dalla parte della ragione in fondo questi uomini dell'ordine pubblico in certo senso era d'accordo con loro crollò le spalle restandosene muto ma cos'ha lì? domandò il poliziotto lì nel portafogli qui? niente è una bozza di stampa rispose Tonio Kruger una bozza di stampa? e come mai? mi faccia un po' vedere e Tonio Kruger gli consegnò il suo lavoro il poliziotto lo aprì disteso sullo scrittorio e cominciò a leggerlo anche il signor Zeehase si accostò per partecipare alla lettura Tonio Kruger guardò da sopra le loro spalle per vedere a che punto fossero un punto buono era un momento d'effetto che lui aveva elaborato eccellentemente era soddisfatto di se stesso guardi disse qui c'è il mio nome questo l'ho scritto io e ora vi è pubblicato capisce? beh questo basta disse il signor Zeehase con decisione afferrati fogli li ripiegò per restituirglieli deve bastare Peterson ripete brevemente mentre socchiudeva furtivo gli occhi scuotendo il capo in segno di diniego non possiamo trattenere ancora il giovane la carrozza aspetta la prego di scusare il piccolo disturbo signore il funzionario ha fatto il suo dovere ma io glielo avevo detto subito che era sulla pista sbagliata ma guarda pensò Tony O'Kreger il polizzotto non sembrava molto d'accordo obiettò ancora qualcosa di un individuo e esibire ma il signor Zeehase con ripetute espressioni di rammarico guidò l'ospite di nuovo nell'atrio in mezzo ai due leoni lo accompagnò alla carrozza dove tra dimostrazioni di stima chiuse personalmente lo sportello e poi la carrozza ridicolmente alta e larga s'avviò traballando tintinnando e strepitando giù per le ripide stradette verso il porto questo fu lo strano soggiorno di Tony O'Kreger nella sua città natale 7 cadeva la notte e in uno splendore argente stava levandosi la luna quando la nave di Tony O'Kreger entrò in mare aperto aprua avvolto nel cappotto per la forza sempre più crescente del vento guardava lo scuro incresparsi e rincorrersi delle onde forti e lisce che accavallandosi si incontravano frangendo sonore fluttuando in direzioni impreviste e scintillando di colpo schiumose si sentiva pervaso da uno stato d'animo instabile e da un'estasi muta era rimasto un po' scosso e nella sua città volessero arrestarlo come un filibustiere qualsiasi è vero? ebbene in un certo senso lo avesse trovato giusto poi però dopo essersi imbarcato si era trattenuto a guardare come a volte da ragazzo con suo padre le operazioni di calico delle merci con cui tra un vociare misto di danese e di basso sassone veniva riempito il ventre profondo della nave aveva visto calare oltre a balle e casse anche un orso bianco e una tigre reale rinchiusi in gabbie dalle inferriate solide appena arrivati da Hamburgo e destinati a un serraglio danese così sarà distratto mentre poi il vapore scivolava tra le piatte rive del fiume aveva dimenticato del tutto l'interrogatorio del poliziotto petersen e quanto invece era accaduto prima i sogni tristi e dolorosi della notte la passeggiata la visita del noce aveva ripreso vigore nell'anima sua e adesso dato che il mare sapriva vedeva lontano la spiaggia su cui da bambino aveva aurigliato i sogni estivi del mare vedeva il bagliore del faro e le luci dell'albergo dove aveva abitato con i suoi genitori il mar baltico appoggiò la testa contro il forte vento salato che libero sfrenato soffiava avvolgendo gli orecchi provocando un capogiro lieve uno stordimento soffocato in cui si perdeva inerte e beato il ricordo di tutte le cose cattive di tormenti ed intrighi di intenzioni e fatiche e in quel sibilare frangere spumeggiare e gemere intorno a lui credette di sentire il fremere il cicolare del vecchio noce lo stridio di un cancello annotava sempre più le stelle oddio guardi un po' le stelle disse ad un tratto una voce dalla cantilena pesante che sembrava venire dall'interno di una botte la conosceva apparteneva a un uomo fulvo e semplicemente vestito con palbe arrossate e un aspetto freddo umido come se avesse appena fatto il bagno era stato vicino di tonio crager e aveva mangiato con movimenti trepidi e modesti una straordinaria quantità di omelette di gamberi era accanto a lui adesso appoggiato al parapetto e guardava su verso il cielo tenendosi il vento tra pollice e indice senza dubbio si trovava in uno di quegli stati d'animo eccezionali e solenni meditativi in cui le barriere tra gli uomini si abbassano il cuore s'apre anche agli estranei e la bocca pronuncia cose davanti alle quali di solito si chiuderebbe vergognosa guardi signore ma guardi un po' le stelle eccole là scintillanti e tutto il cielo dio sa come ne è pieno e ora si figuri guardar su e pensare che molte di esse sono più grandi della terra come ci si deve sentire noi uomini abbiamo inventato il telegrafo e il telefono e abbiamo fatto tanti progressi nell'epoca moderna sì ecco quel che abbiamo fatto ma se guardiamo lassù dobbiamo pur riconoscere e capire che in fondo siamo vermi miserabili vermi e nient'altro ho ragione o no signore sì siamo proprio vermi rispose a se stesso e a noi umile e compunto verso il firmamento ahi no quello la letteratura in corpo non ce l'ha pensò Antonio Kruger e gli venne subito in mente qualcosa che aveva letto da poco tempo il saggio di un celebre scrittore francese sulla visione cosmologica e psicologica del mondo belle cianze aveva fatto quello rivolse al giovane una specie di risposta dall'osservazione profondamente sentita e poi continuarono a parlare appoggiate al parapetto guardando lontano nella sera agitata e dai chiarori irregolari e ne a sapere che il compagno di traversata era un giovane commerciante di Hamburgo il quale approfittava delle ferie per quel viaggio di piacere devi andartene un po' con il pirosco a fuoco a copenaghen penso e adesso eccomi qua disse e finora è persino tutto bello ma la storia delle omblette di gamberi no non era una cosa giusta signore lo vedrà lei perché ci sarà tempesta stanotte lo ha detto il capitano stesso e con un mangiare così indigesto nello stomaco non sarà certo un divertimento Tonio Krueger ascoltava tutta quella balordaggine premurosa con un senso familiare e amichevole è vero disse da queste parti il mangiare è sempre troppo pesante e fa diventare pigri e malinconici malinconici ripete il giovane guardandolo sconcertato lei è forestiero signore gli domandò improvvisamente sì certo vengo da lontano rispose Tonio Krueger facendo con il braccio un movimento vago e protettivo ma lei ha ragione disse il giovane lo sa Dio se lei ha ragione su quanto dice della malinconia io sono quasi sempre malinconico specialmente poi in serate come queste quando in cielo ci sono le stelle e di nuovo puntellò il mento tra pollice e indice certamente scrive versi pensò Tonio Krueger versi da commerciante sinceri e profondi la sera stava avanzando e il vento soffiava con tanta violenza da impedire la conversazione così decisero di dormire un pochino e si augurarono la buona notte Tonio Krueger si distese in cabina sulla piccola cuccetta ma non riuscì a riposarsi il vento forte e quel suo acri odore gli avevano provocato una strana eccitazione si sentiva agitato quasi attendesse impaziente qualcosa di dolce inoltre le vibrazioni formantesi quando la nave scivolava su un'onda ripida e l'elica girava con un crampo spasmodico fuori dell'acqua gli causavano un brutto malessere si rivesti completamente e salì all'aperto davanti alla luna stavano inseguendosi delle nuvole il mare ballava non in cavalloni tondi e uniformi di una normale increspatura ma dileniato sferzato sconvolto il mare lontano in una luce pallida e tremolante guizzava e rimbalzava alto con lingue giganti appuntite a forma di fiamma sollevando accanto ad abissi schiumosi immagini frastagliate e inverosimili quasi in un gioco furibondo scagliasse in aria con la forza di braccia enormi la schiuma il vapore stava navigando con difficoltà arrancando rullando e scricchiolando sapriva il varco in quel tumulto e a volte si sentivano urlare nella stiva l'orso e la tigre che soffrivano il mal di mare un uomo inimpermeabile di tela cerata il cappuccio sulla testa e una lanterna appesa alla cintola andava su e giù a gambe larghe tenendosi faticosamente in equilibrio sulla tolda là dietro invece proteso oltre il bordo sarà il giovane di Hamburgo che se la passava male oddio disse con voce cavernosa ed esitante non appena ebbe scorto Tonio Kreger guardi un po' l'insurrezione degli elementi signore poi però essendo stato interrotto si voltò in fretta Tonio Kreger tenendosi a una gomena tesa guardava fuori in tutta quella violenza sfrenata con una sensazione di gioia in cuore si sentì abbastanza potente da coprire il fragore della tempesta e dei flutti un canto al mare infiammato d'amore e cheggiò in lui tu amico furioso della mia gioventù eccoci di nuovo riuniti poi però la poesia era finita restò senza conclusione non prese forma precisa non venne forgiata con serenità in qualcosa di compiuto il suo cuore viveva a lungo se ne stette così poi si distese su una panca del ponte e guardò su nel cielo dove tremolavano le stelle s'assopì persino un poco e quando la schiuma fredda gli schizzava in viso nel dormiveglia sentiva come una carezza scogliere cretacee a piombo sul mare spettrali al chiaro di luna furono in vista e si avvicinarono era Mön l'isola e di nuovo sopravvenne il sopore interrotto da spruzzi di pioggiarella salmastra e pungevano taglienti il viso facendo irrigidire i lineamenti e quando si svegliò era ormai giorno una giornata grigio chiaro e fresca e il mare verde più calmo a colazione rivide il giovane commerciante il quale arrossendo violentemente forse per la vergogna di aver raccontato al buio cose tanto poetiche e ridicole pisciandosi contropelo con tutte e cinque le dita ai baffetti fulvi e gridò un rigido saluto militaresco cercando poi timoroso di evitarlo tonio kreger sbarcò in danimarca arrivò a copenhagen distribuì mancia a tutti coloro che facevano vista di averne diritto dalla camera dell'albergo per tre giorni andò vagando per la città portando aperta davanti a sé la guida e comportandosi come uno straniero distinto che desiderasse arricchire le proprie cognizioni contemplò la piazza del palazzo reale e il cavallo che c'era in mezzo sollevò uno sguardo rispettoso verso le colonne della frauenkirche stette a lungo davanti alle sculture nobili e graziosi di Thor Valsen salì la torre rotonda visitò i castelli e passò due belle serate al Tivoli ma non solo queste furono in realtà le cose da lui viste alle case che spesso avevano l'aspetto delle vecchie case della sua città con frontoni inarcati e traforati vide nomi che gli erano noti dai bei tempi che sembravano indicargli delicatezze e preziosità e con tutto ciò contenevano una specie di rimprovero di rammarico e di desiderio per cose perdute e ogni dove respirando a boccate lente e pensose l'umida aria di mare vedeva occhi così azzurri capelli così biondi visi di tipo e forme veduti nei sogni tanto dolorosi e contriti della notte passata nella città natale poteva accadere che per la strada uno sguardo una parola argentina uno scoppio di risa lo colpisse nell'intimo non ci si poteva più vedere in quella città briosa lo agitavano un'ansia dolce ed assurda per metà ricordo e per metà attesa e il desiderio di potersi sdraiare tranquillo in un posto qualsiasi della spiaggia e non dover più recitare la parte del turista affacendato così si imbarcò di nuovo e in una giornata cupa il mare era nero navigò lungo la costa settentrionale di Sirland verso Helsinger poi proseguì subito il viaggio in vettura per altri tre quarti d'ora sulla strada sempre un po' al di sopra del mare finché giunse alla meta vera e propria il bianco alberghetto balneare con le persiane verdi situato nel bel mezzo di un gruppo di casette basse dalla cui torre con tetto di legno si vedeva il Sund e la costa svedese ripresa alloggio occupando la camera luminosa che gli era stata preparata riempì armadio e scansie con la roba che si era portato accingendosi a viverci per un pezzo capitolo 8 il settembre stava ormai avanzando in Asgard non c'erano più molti ospiti durante i pasti nella grande sala da pranzo dal soffitto di travi al pian terreno i cui finestre alte davano sulla veranda a vetri e sul mare a capotavola si stava la padrona una donna attempata con i capelli bianchi occhi scialbi guance rosa delicato e voce instabile cinguettante la quale cercava sempre di mettere insieme un po' graziosamente sulla tovaglia le sue mani rosse era un signore anziano dal collo corto i baffi bianchi alla marinara e il viso azzurronio alloscuro un commerciante di pesci venuto dalla capitale il quale parlava tedesco sembrava completamente congestionato e con tendenza alla poplessia perché respirava poco e a scatti alzando di tanto in tanto l'indice inanellato a una delle narici per premerla e per curare così all'altra soffiando con forza un po' d'aria ciò nonostante faceva sempre onore alla bottiglia d'acquavite che tanto a colazione quanto a pranzo e a cena gli stava davanti gli altri presenti erano tre giovani americani con il precettore che in silenzio si aggiustava gli occhiali sul naso e di giorno giocava al pallone con i ragazzi i capelli arancioni riportavano pettinati con la scriminatura nel mezzo e i loro visi erano lunghi e immobili please give me the worst thing there that's not worst that she can diceva un altro ed era tutto quello con cui tanto loro quanto il precettore contribuivano alla conversazione altrimenti se ne stavano seduti in silenzio e bevevano acqua calda Antonio Krieger non si sarebbe augurato nessun altro tipo di commensali si godeva la pace ascoltava i suoni gutturali danesi le vocali chiare e cupe con cui di tanto in tanto chiacchieravano il commerciante di pesce e la padrona scambiava a volte con il primo qualche comune osservazione sul livello del barometro e si alzava poi per andare di nuovo passando per la veranda giù alla spiaggia dove aveva già trascorso molte ore della mattinata talvolta laggiù l'aria era quieta e come d'estate il mare riposava inerte e calmo a strisce azzurre verde bottiglia e rossicce sfiorato dallo scintillio argente o dei riflessi di luce il fuco seccava al sole e le meduce svaporavano nell'aria c'era odore un po' di marcio e un po' del bitume della barca da pesca alla quale Antonio Krieger seduto sulla sabbia appoggiava la schiena dirato così da avere davanti agli occhi l'orizzonte aperto e non la costa svedese ma l'alito lieve del mare sfiorava pulito e fresco ogni cosa e vennero giornate grise e tempestose le onde flettevano la testa come tori lì per scoccar la cornata rovesciandosi furiose contro la spiaggia che l'ambita fin molto in alto era cosparse di alghe luccicanti d'umido di conchiglie e di rottami di legno tra le allungate colline ondose si estendevano sotto il cielo coperto le valli verde pallido schiumanti ma dove dietro le nuvole si trovava il sole sulle acque c'era uno scintillio vellutato biancastro Tonio Krieger avvolto negli spruzzi e nel vento sprofondava in quel fragore eterno intenso assordante da lui tanto amato e si voltava per andarsene allora gli sembrava ad essere attorniato ad un tratto da calma e calore ma sapeva ad avere alle spalle il mare chiamava attirava e salutava e lui sorrideva si avviava verso l'interno del paese per strade di campagna nella solitudine ben presto entrava in un faggetto collinoso che si estendeva lontano nei dintorni si sedeva nel muschio appoggiato ad un albero così da poter scorgere fra i tronchi una striscia di mare a volte il vento gli portava lo scroscio della risacca dal suono simile a quello di assi cadenti lontano una sull'altra sulle cime degli alberi stridio di cornacchie rauco insulso e svanente teneva un libro sui ginocchi ma senza leggerne neppure una riga godeva un oblio profondo un librarsi redento su spazio e tempo e solo di tanto in tanto sentiva il cuore scosso da una pena una sensazione breve e pungente di malinconia e pentimento ma era troppo pigro e assorto per chiederle nomi e provenienza così passarono alcuni giorni non avrebbe saputo dire quanti e non desiderava saperlo poi però ne venne uno in cui accadde qualcosa accadde alla luce del sole e in mezzo alla gente e tonio craiger non ne fu nemmeno molto sorpreso quel giorno prese fin dall'inizio una piega festosa e incantevole tonio craiger si svegliò molto presto ed un tratto si scosse dal torpore del sonno con uno spavento leggero e indefinito perdendo di vedere un miracolo una magia fiabesca di luci la sua camera esposta con vetrata e balcone verso il sud e divisa da una sottile tenda bianca in soggiorno e riposo era tappezzata di colori morbidi e arredata con mobili leggeri e chiari così da offrire sempre un aspetto luminoso e cordiale ma i suoi occhi insonnoliti se la videro davanti immersa in una trasfigurazione luminosa ultraterrena completamente affondata in un infinito splendore rosio incantevole e profumato che indorava pareti e mobili trasformava la tenda in una blanda incandescenza rossa ma il mio craiger per un po' non capì che stava accadendo quando però fu davanti alla vetrata e guardò fuori vide che era il sole nascente per parecchi giorni il tempo era stato cupo e piovoso ma ora il cielo si spiegava quasi drappo teso di seta azzurro pallido trasparendo chiaro su mare e terra e attraversato e avvolto da nuvole irradiate di rosso e oro si alzava solenne il disco del sole sul mare che increspato di luce tremolante pareva rabbrividire e infocarsi così cominciò la giornata e tonio craiger confuso e felice si gettò nel vestito fece colazione prima di tutti gli altri giù nella veranda e poi dalle piccole cabine di legno nuotò per un lungo tratto fuori nel sund facendo dopo una lunga camminata di ore sulla spiaggia al ritorno davanti all'albergo c'erano ferme parecchie vetture a omnibus e dalla sera da pranzo osservò che tanto nel soggiorno adiacente dove c'era il pianoforte quanto nella veranda e sulla terrazza davanti ai tavoli rotondi c'era seduta una gran quantità di gente uomini e donne vestite da piccoli borghesi i quali stavano assaporando immersi in un'animata conversazione birra e pane imburrato famiglie intere gente anziana e giovane persino un paio di bambini alla seconda colazione la tavola era colma di cibi freddi carne affumicata assalata e arrostita tonio kruger si informò su quanto stesse accadendo turisti disse il commerciante di pesci giganti di helsinger venuti a fare quattro salti dio ce ne liberi stanotte non potremo dormire ci sarà musica musica e ballo e si ha da temere che duri molto è un convegno di famiglia una scampagnata con annesso trattenimento in poche parole un viaggio in comitiva o qualcosa del genere e si godono la bella giornata sono venuti in battello in vettura e ora stanno facendo colazione più tardi faranno una gita ma stasera ritornano e poi qui in sala ci sarà una festicciola di ballo maledizione non chiuderemo occhio è un diversivo grazioso disse tonio kruger e non si parla più per molto tempo la padrona continuò ad aggiustare le sue dita rosse il commerciante di pesci a soffiare dall'anarice destra per procurarsi un po' d'aria e gli americani a bere acqua calda facendo per di più il muso lungo improvvisamente ecco il fatto Hans Hansen e Ingeborg Holm attraversano la sala tonio kruger piacevolmente stanco per il bagno e per la svelta camminata era appoggiato alla sedia e stava mangiando salmone affumicato su pane abbrustolito era seduto rivolto alla veranda e al mare un tratto la porta si aprì e mano nella mano i due entrarono gironzolando e senza fretta Ingeborg la bionda Inge era vestita di chiaro come di solito alle lezioni di ballo del signor Knaak il leggero vestito fiorato arrivava fino alle caviglie e sulle spalle portava una larga guarnizione di tul bianco scollata a punta che lasciava libero il collo morbido e flessuoso il cappello con i nastri legati pendeva da un braccio era forse un pochino più matura di prima e portava la meravigliosa treccia bionda avvolta sulla testa Hans Hansen invece era proprio come sempre il giaccone da marinaio con i bottoni d'oro sul quale alle spalle e sulla schiena si posava il largo colletto blu il berretto alla marinara con i nastri corti lo teneva nella mano penzoloni dondolandolo avanti e indietro spensieratamente gli occhi di Ingeborg dal taglio sottile erano rivolti altrove forse perché lei era un po' imbarazzata per la gente che mangiando la guardava solo Hans Hansen teneva la testa voltata proprio e a dispetto di tutti verso la tavolata e squadrava provocante in un certo senso altezzoso con i suoi occhi azzurro acciaio i commensali uno dopo l'altro aveva persino abbandonato la mano di Ingeborg per agitare con maggior impeto avanti e indietro il suo berretto e mostrare qual uomo fosse i due quindi sullo sfondo del mare calmo e sempre più azzurro passarono sotto gli occhi di Tony O'Kreger attraversando la sala per la lunghezza e sparendo dalla parte opposta nel soggiorno ciò accadde alle undici e mezzo del mattino e mentre gli ospiti dell'albergo stavano ancora facendo colazione la comitiva accanto e nella veranda s'alzò e senza attraversare la sala da pranzo lasciò l'albergo dall'ingresso laterale e si sentirono salire tra scherzi e risa sulle vetture si sentirono i veicoli uno dopo l'altro fricchiolando mettersi in movimento sulla strada e poi andarsene rumorosi allora ritornano domandò Tony O'Kreger e come disse il commerciante di pesci purtroppo hanno ordinato la musica si figuri un po' e io dormo qui sopra la sala è un diversivo grazioso ripete Tony O'Kreger poi si alzò e se ne andò via la giornata la passò come aveva passato le altre alla spiaggia nel bosco tenendo i libri sui ginocchi e guardando con gli occhi socchiusi il sole soltanto un pensiero aveva e sarebbero ritornati e avrebbero fatto una festicciola nella sala e non fece che rallegrarsene con una gioia trepidante e dolce per tutti quegli anni morti non più sentita una volta si ricordò così di sfuggita per una certa associazione di idee un conoscente lontano e ad Albert il novellista il quale sapendo ciò che voleva era andato al caffè per sfuggire la primavera e ci fece una scrollatina di spalle il pranzo fu servito prima del solito e si cenò anche più presto del consueto nel soggiorno perché in sala erano in corsi preparativi per il ballo tutto era stato messo in disordine in maniera festosa poi era già buio e Tonio Krueger se ne stava in camera sua per la strada e in casa ci fu di nuovo animazione ritornarono i gitanti arrivarono persino altri ospiti da Helsinger in bicicletta e in carrozza mentre in casa si sentiva un violino alla ricerca dell'accordatura e un clarinetto eseguire le scale naseggianti tutto faceva prevedere che ci sarebbe stata una bella festa da ballo finalmente l'orchestrina attaccò una marcia smorzata e ritmica risuonò fin sopra le danze furono aperte con una polonaise Tonio Krueger stette ancora un po' seduto in silenzio e ascoltò ma quando udì il tempo di marcia trasformarsi in tempo di valse si alzò uscendo quattroquatto e silenzioso dalla sua camera dal corridoio in cui si trovava era possibile raggiungere per una scala di servizio l'ingresso laterale dell'albergo e di là senza dover attraversare nessuna stanza la veranda a vetri si avviò per quella strada in silenzio e furtivo come se si trovasse su una via proibita cercò a tastoni con cautela nel buio attratto irresistibilmente da quella musica stupida e cullante beata i cui suoni gli pervenivano già chiari e inattutiti la veranda era vuota e non illuminata ma la vetrata verso la sala dove le due grandi lampade a petrolio con diffusori bruniti irradiavano la luce chiara era aperta e si introdusse camminando leggero e la soglia furtiva di starsene lì al buio e poter spiare non visto quelli che ballavano gli provocava un formicolio sulla pelle in fretta e curioso avvolse lo sguardo verso i due che cercava la festa sembrava aver raggiunto il pieno dell'allegria sebbene fosse cominciata da appena mezz'ora ma tutti vi erano arrivati già entusiasti ed eccitati dopo aver passato la giornata intera in compagnia spensierati e felici nel soggiorno che Tony Kruger poteva dominare con lo sguardo se osava spingersi un po' più avanti si erano riuniti parecchi signori anziani per giocare a carte fumare e bere altri invece sedevano con la moglie in prima fila sulle sedie di felpa accanto alle pareti della sala e osservavano il ballo tenendo le mani poggiate sui ginocchi allargati confiavano le guance con un'espressione soddisfatta mentre le madri cuffia in testa le mani riunite sotto il petto e la testa piegata a lato guardavano il trambusto dei giovani alla parete lunga della sala era stato eretto un palco dove i musicanti ce la stavano mettendo tutta c'era persino una tromba soffiava con una certa cautela esitante come se si spaventasse della propria voce che inoltre di continuo svaniva e steccava londolando le coppie giravano intorno mentre altre camminavano per la sala a brazzetto non erano vestiti per il ballo nensì come per una domenica d'estate da passare all'aperto i cavalieri in abiti di taglio provinciale che si vedeva erano stati riguardati per tutta la settimana e le ragazze in vestiti chiari e leggeri con mazzetti di fiori di campo al corsetto nella sala c'erano anche un paio di bambini che a modo loro ballavano insieme persino quando la musica taceva un uomo dalle gambe lunghe e giacchetta a coda di rondine un bell'imbusto da provincia con occhiali e capelli arricciati a ferro avventizio postale o qualcosa del genere simile all'incarnazione di un personaggio comico di un romanzo danese aveva l'aria di essere il festaiolo e capolione del ballo sollecito sudando e concentrandosi con tutta l'anima era nel medesimo istante e dappertutto si dimenava occupatissimo per la sala posando prima artisticamente le punte e sovrapponendo in modo strano i piedi infilati in stivaletti militari aguzzi e lisci agitava le braccia in aria deliberava chiedeva musica batteva le mani e nel fare il tutto i nastri della grande fascia colorata e distintivo della sua carica fissato alla spalla verso cui di tanto in tanto volgeva amorevolmente il capo svolazzavano dietro di lui sì c'erano anche loro i due che la mattina erano passati davanti a Tonio Krueger alla luce del sole rivide e rabbrividi di gioia scorgendoli quasi nello stesso momento vicinissimo a lui subito alla porta c'era Hans Hansen a gambe divaricate piegato in avanti stava mangiandosi pian piano una grossa fetta di torta tenendo il cavo della mano sotto il mento per raccogliere le briciole e là alla parete era seduta Ingeborg Holm la bionda Inge e l'avventizio stava appunto rimanandosi attorno a lei per invitarla con un inchino manierato eseguito ponendo una mano alla schiena e infilandosi graziosamente l'altra in petto ma Inge scosse il capo facendo capire di essere trafelata e di voler un po' riposare e l'avventizio allora le si sedette accanto Pano Krueger li guardò i due per i quali nel passato aveva sofferto l'amore Hans e Ingeborg erano loro non tanto in virtù delle singole caratteristiche e della similitudine dell'abbigliamento quanto invece in forza della somiglianza alla razza e alla specie a quel tipo chiaro dagli occhi azzurro acciaio e dai capelli biondi e suscita un'idea di purezza inalterabilità serenità e di ritrosazzine intangibile al tempo stesso orgogliosa e semplice li guardò guardò Hans Hansen ardito e ben formato come non mai largo di spalle snello ai fianchi con il vestito alla marinara guardò Ingeborg in una certa maniera spavalda gettare a lato ridendo la testa portare in una certa maniera la mano alla nuca e una mano da ragazzina non particolarmente affusolata non particolarmente graziosa così che il velo bianco della manica le scivolò giù dal gomito e di colpo la nostalgia gli scosse il petto con un tal dolore che involontariamente indietreggiò perché non gli si vedesse la contrizione del volto vi avevo dimenticati si domandò no mai né te Hans e né pure te bionda Inge voi eravate coloro per cui ho lavorato e quando sentivo un applauso mi guardavo furtivamente attorno per vedere se anche voi c'eravate lo hai poi letto Don Carlos Hans Hansen come mi avevi promesso al cancello del vostro giardino non lo fare non lo esigo più da te che te ne importa del re che piange perché è solo non render cupi e imbambolati i tuoi occhi chiari ostinandoti in verse e malinconia essere come te ricominciare da capo crescere simile a te leale allegro e semplice secondo norma e regola d'accordo con Dio e il mondo essere amato da innocenti e felici prendere in moglie te Ingeborg Holm e avere un figlio come te Hans Hansen e libero dalla maledizione della conoscenza e del tormento creativo vivere amare e lodare in beata mediocrità ricominciare un'altra volta ma non servirebbe a niente sarebbe di nuovo tutto così tutto avverrebbe di nuovo come è avvenuto in quanto ciascuni sono costretti a smarrirsi perché una via giusta per essi non esiste affatto ora la musica taceva era l'intervallo e vennero offerti i rinfreschi l'avventizio corriva in giro con un vassoio pieno di insalata da ring e serviva personalmente le signore davanti a Ingeborg Holm si piegò persino su un ginocchio per porgerle la coppetta e lei ne arrossì di gioia si stava cominciando nella sala a rivolgere l'attenzione allo spettatore sotto la vetrata cui pervenivano da visi graziosi accaldati sguardi estranei e scrutanti solo nonostante se ne restò al suo posto anche Ingeborg e Hans lo sfiorarono quasi contemporaneamente con gli occhi con quella indifferenza totale che quasi sembra disprezzo all'improvviso però si rese conto che da qualche posto uno sguardo lo stava fissando volse il capo e i suoi occhi si incontrarono subito con quelli con cui aveva sentito il contatto non lontano c'era una ragazza dal viso pallido affilato e grazioso che lui aveva notato già prima non aveva ballato molto i cavalieri non si erano occupati di lei in modo particolare ed egli l'aveva vista star seduta alla parete sola e con le labbra arcignamente serrate anche adesso era sola portava un abito chiaro e vaporoso come le altre ma sotto la stoffa diafana trasparivano le spalle nude appuntite in misera e il collo era piantato così in basso tra quelle spalle meschine che la ragazza pareva quasi un po' deforme le mani ricoperte di mezzi guanti sottili le teneva davanti al seno piatto così che le punte delle dita si storavano la testa piegata guardava Tonio Krager dal basso in alto con i suoi occhi scuri e offuscati lui si voltò Hans e Ingeborg gli stavano seduti vicinissimo egli le si era messo accanto quasi fosse sua sorella e circondati da altri ragazzi dalle guance rosse mangiavano bevevano chiacchieravano si divertivano e si prendevano in giro con voci squillanti ridendo forte nell'aria non poteva avvicinarsi un pochino non poteva rivolgere a lui o a lei una parola scherzosa che gli fosse venuta in mente cui essi avrebbero dovuto rispondere perlomeno con un sorriso lo avrebbero reso felice lo desiderava poi si sarebbe ritirato contento in camera sua cosciente di aver stabilito con i due una piccola complicità pensò che cosa avrebbe potuto dire ma non ebbe il coraggio di dirlo e poi sarebbe pure accaduto come sempre non lo avrebbero capito avrebbero ascoltato con disappunto quanto lui sapeva dire perché la lingua loro non era come la sua sembrava che le danze dovessero ricominciare l'avventizio stava sviluppando una vasta attività correva a destra e a sinistra esortava tutti a impegnarsi sgombrava con l'aiuto del cameriere sedi e bicchieri impartiva ordine ai musicanti e spingeva per le spalle uno per uno i balordi che non sapevano dove mettersi che si intendeva fare ogni quattro coppie formavano un quadrato un ricordo terribile fece arrossire tonio crager si ballava la quadriglia la musica attaccò e le coppie ricominciarono tranquini a incrociarsi l'avventizio comandava comandava addirittura in francese emettendo i suoi suoni nasali in modo incomparabilmente distinto fingeborg holm ballava proprio davanti a tonio crager nel quadrato subito accanto alla vetrata dinanzi a lui si muoveva incedendo e girando su e giù avanti e indietro di tanto in tanto un profumo emanato dai capelli o dalla stoffa delicata dell'abito di lei lo sfiorava e lui chiudeva gli occhi provando una sensazione da tempo ben nota di cui in tutti quei giorni aveva lievemente sentito l'aroma e il facino aspro e che ora lo riempiva di nuovo con tutto il suo dolce tormento ma che era malinconia tenerezza invidia disprezzo di se stesso mulinè ed edam ridesti tu londa inghe mi canzonasti quando io ballai mulinè rendendomi tanto pietosamente ridicolo e riteresti anche oggi ora che son diventato qualcosa come un uomo celebre si lo faresti avendo tre volte ragione anche se io io tutto solo avessi creato le nove sinfonie il mondo come volontà e rappresentazione e il giudizio universale avresti eternamente ragione di ridere la guardò e gli venne in mente un verso di cui da lungo tempo non si era ricordato ma che gli era tanto familiare e affine dormire vorrei ma tu vuoi danzare la conosceva così bene la pesantezza malinconico nordica intimo goffa che parlava da quel verso dormire desiderare di poter vivere proprio e del tutto secondo il sentimento che senza il dovere di diventare fatto e danza riposa in se stesso dolce e pigro e tuttavia danzare agile e disinvolto dover eseguire la difficile difficile e pericolosa danza sul rasoio dell'arte senza mai dimenticare completamente l'assurdità umile che c'era nel voler danzare mentre si amava di colpo le danze si trasformarono in un movimento folle e sfrenato i quadrati si erano sciolti e tutti schizzavano attorno saltando e scivolando la quadriglia fu chiusa in un galoppo le coppie volavano al tempo forzato della musica delirante davanti a Tonio Krueger traversando di corsa la sala incalzandosi e superandosi tra brevi risa affannate ne arrivò una sgambettando trascinata dall'inseguimento generale stridendo e vorticando in avanti la ragazza aveva il viso pallido e grazioso e spalle magre e troppo alte e improvvisamente proprio davanti a lui ecco che si incesplicano sdrucciolano e stramazzano la ragazza pallida cadde a terra cadde in modo tanto violento da sembrare persino pericoloso e con lei cadde anche il cavaliere doveva essersi fatto tanto male che dimenticata completamente la sua dama cominciò in posizione semi-erretta tra smorfie a sfregarsi i ginocchi con le mani e la ragazza evidentemente intontita dalla caduta era ancora distesa per terra Tonio Krueger si fece avanti e presa la con dolcezza per le brazza la alzò affaticata confusa e infelice e se guardò verso di lui e di colpo il suo viso grazioso si colorì d'un rosso slavato tac oh mangue tac disse guardando dal basso in alto con occhi scuri offuscati lei non dovrebbe più ballare signorina le disse dolcemente poi gettò ancora una volta lo sguardo verso di loro verso Hans e Ingeborg e andò via lasciò la veranda e il ballo e se ne salì in camera sua era inebriato dalla festa pur non avendovi partecipato e stanco per la gelosia come prima tutto come prima con il volto accaldato se n'era stato in un angolo oscuro addolorato per voi voi biondi felici fortunati andandosene poi solitario ma doveva ben venire qualcuno Ingeborg doveva venire doveva notare che lui era lontano doveva seguirlo furtivamente mettergli una mano sulla spalla e dirgli veni dentro da noi si felice ti amo ma non venne affatto cose simili non accadono si era come allora e come allora era felice perché il suo cuore viveva ma che accadde durante tutto quel tempo in cui stava diventando quanto adesso era irrigidimento esolazione ghiaccio e ingegno e arte si spogliò si coricò e spense la luce due nomi mormoravano il cuscino quel paio di sillabe caste e nordiche che gli rivelavano il suo vero e primo modo di amare soffrire ed essere felice la vita il sentimento semplice e intimo il paese nativo guardò indietro negli anni da allora fino a quel giorno pensò alle sfrenate avventure dei sensi dei nervi e del pensiero da lui stesso vissute si vide corroso da ironia e spirito devastato e paralizzato dalla conoscenza semi estenuato dalle febbri e dai brividi della creazione gettato qua e là senza sostegno e in preda a crisi di coscienza tra estremi crassi tra santità e concupiscenza smaliziato impoverito estenuato ed esaltazioni frigide e acquisito artificialmente smarrito disfatto torturato malato e singhiozzò di dolore e di nostalgia intorno c'era buio e silenzio ma da sotto risuonava smorzato e cullante verso di lui il dolce e grossolano valzer della vita 10 Tonio Krieger si trovava al nord e scrisse a Lisaveta Ivanovna la sua amica come le aveva promesso cara a Lisaveta laggiù nell'arcadia dove presto ritornerò scrisse eccole allora una specie di lettera ma ne resterà delusa perché intendo tenerla un po' sulle generali non che non abbia niente da raccontarle non che non abbia vissuto a modo mio questa o quella esperienza a casa nella mia città natale mi si voleva persino arrestare ma di questo ne riferirò a voce a volte ora ho dei giorni in cui preferisco dire con buone maniere qualcosa di generale piuttosto che raccontare avvenimenti si ricorda ancora Lisaveta di avermi chiamato un giorno borghese borghese smarrito lei mi chiamò così in un momento in cui io indotto da altre confessioni che precedentemente mi ero lasciato sfuggire le confessai anche il mio amore per quanto io chiami vita e mi domando se lei sapesse di cogliere nel segno se sapesse che la mia borghesia e il mio amore alla vita sono la stessa cosa questo viaggio mi ha dato l'occasione di rifletterci sopra mio padre lei lo sa aveva un carattere nordico contemplativo profondo corretto per puritanismo e tendente alla malinconia mia madre era di sangue esotico indefinito bella sensuale ingenua negligente e al tempo stesso passionale ed una trascuratezza impulsiva senza dubbio certo era una mescolanza questa piena di possibilità straordinarie e pericoli straordinari ed ecco nel risultato un borghese che si è smarrito nell'arte uno scapigliato nostalgico della buona educazione giovanile un artista con la coscienza sporca in quanto è proprio la mia coscienza borghese che mi fa scorgere in tutta la vocazione artistica in tutta la straordinarietà e in tutto l'insegno qualcosa di profondamente ambiguo profondamente malfamato profondamente dubbioso che mi ricolma di debolezza innamorata per il più semplice il sincero e piacevole normale l'antigeniale ed ecoroso io sto tra due mondi e nessuno sono di casa e per tale motivo mi trovo un po' in difficoltà voi artisti mi chiamate borghese e i borghesi sono tentati ad arrestarmi non so quale delle due cose mi mortifichi più amaramente i borghesi sono stupidi voi adoratori della bellezza invece voi mi chiamate flemmatico e senza ambizioni dovreste pensare che esiste una vocazione artistica così profonda dall'inizio e per destino da non trovare ambizione più dolce e più delicata di quella per le delizie della mediocrità li ammiro io i tipi orgogliosi e freddi che vanno in cerca d'avventure sul sentiero della bellezza grande e demoniaca e disprezzano l'uomo ma non l'invidio in quanto se c'è un che in grado di fare d'un letterato un poeta quello è il mio amore borghese verso le cose umane viventi e mediocri tutto il calore tutta la bontà tutto il brio vengono da quell'amore e sono quasi convinto che sia lo stesso di cui sta scritto che si può parlare con lingua umana e angelica senza però essere solo un bronzo sonante o un campanello trillante quanto io ho fatto non è nulla non molto quasi niente farò qualcosa di meglio Elisabetta è una promessa mentre scrivo il muglio del mare arriva fin qui da me e io chiudo gli occhi scruto in un mondo in embrione schematico che deve essere ordinato e formato scruto in un brulichio d'ombre di figure umane che mi fan cenno ad ammaliarle e redimerle alcune tragiche alcune ridicole e certe che sono l'uno e l'altro nello stesso tempo e a questo sono molto affezionato ma il mio amore più profondo e più segreto è per i biondi per quelli dagli occhi azzurri per i felici puri per i fortunati per gli amabili e i mediocri non biasimi questo amore Elisabetta è buono e fecondo di desiderio è fatto e di invidia malinconica ed è un pochino di disprezzo e di una grande beatitudine casta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.